In ogni caso, se riesco finalmente a iniziare e concludere un discorso, qualora non ne fosse al corrente, con Claudio abbiamo acquistato casa. E in questa casa vorremmo cercare di trasferirci il prima possibile. Ora, quando è questo prima possibile? Ancora non lo sappiamo. Idealmente si parla del mese di aprile, e siamo al 25 marzo. Nella peggiore delle ipotesi, si andrà via da Bologna verso fine maggio, anche perché il 29 maggio mi scade l'affitto in questo appartamento, e quindi tanto oltre non possiamo andare, no? Il punto qual è? È che per cercare di fare tutto quanto il prima possibile, quindi in questo momento sto parlando del trasloco, vanno fatti dei piccoli lavoretti nel nuovo appartamento. Però per fare questi lavoretti nel nuovo appartamento, ho bisogno di star via qualche giorno alla volta, perché l'appartamento non è a Bologna. Io e Claudio stiamo andando via da Bologna. Non intendo dirvi dove, per questioni di privacy ovviamente, però non abiteremo più a Bologna. E quindi se abbiamo fatti dei lavori, mi conviene stare via 3-4 giorni alla volta, fare il più possibile, tornare qui, lavorare un po', ripartire, fare il più lavori possibili, tornare giù, e via così fino a quando non sarà tutto pronto. Ora, per quello che riguarda le cose che dobbiamo fare noi, ci manca dipingere le pareti del mio ufficio, perché intendo fare un paio di pareti, quella davanti a me e quella dietro che vedrete come sfondo, di colore verde scuro. dovrò ridipingere una parte del terrazzo per questioni che vi spiegherò poi magari in un secondo momento, e devo passare la seconda mano di smalto in cucina, perché non ci piaceva, o meglio, sarebbe stato carino mettere le piastrelle dietro tipo al piano cotture, al lavandino, ma non abbiamo trovato piastrelle funzionali che ci piacessero, e che combaciassero anche bene con il colore che volevamo fare per il muro della cucina, e con la cucina che abbiamo comprato. Quindi abbiamo applicato questo smalto che praticamente rende il muro lavabile. Gran figata, ovviamente non ci posso versare volontariamente sopra la passata, l'olio, però se si macchia e lo togli via subito si pulisce. Gran figata. Però se dobbiamo fare queste cose qua, dobbiamo installare tutte quante le luci, perché attualmente ci sono soltanto i cavi con la lampadina venzolante, quindi dobbiamo installare tutte quante le luci in casa. E una volta fatte queste cose, bene o male, noi saremo pronti a partire, perché nei prossimi giorni verranno a montare la cucina, verranno a consegnare il frigo, verranno a allacciare la connessione internet all'appartamento, verranno a montare il mobiletto del bagno, verranno a montare i lavabi e i box doccia dei bagni, perché tra l'altro ecco quello che sto dicendo è che ho scoperto che ormai non si usa più quando costruisci una casa nuova mettere il lavabo e il box doccia. Una volta lo facevano, ora non lo fanno più le aziende di costruzione, ovviamente non le paghi perché giustamente se non te le mettono che cazzo le paghi però non lo fanno perché dicevano ma tanto la gente le toglie subito quelle cose quindi perché lasciargliele noi le avremmo apprezzate però vabbè quindi una volta che abbiamo bene un'idea riguardo quelle che sono le tempistiche esterne a noi quindi quando vengono a montarci A, B, C e D sapremo anche quando ci trasferiremo il punto è che finché sono in questo limbo io purtroppo cerco di fare il possibile quindi come detto magari passo 3-4 giorni a casa in cui cerco di lavorare il più possibile per poi passarne 3-4 via il fatto è che cercare di concentrare tipo 8 giorni di lavoro in soli 4 giorni cercando anche di essere un padre presente è tosta perché sto facendo un po' fatica quindi arrivo fuso arrivo un po' tirato con la registrazione dei video che è una cosa a cui non sono minimamente abituato perché sono sempre stato iper puntuale nel consegnare le cose con una settimana d'anticipo massimo nel senso che meno di una settimana difficilmente ho consegnato materiali agli editor a meno che non ci fossero altre situazioni simili a queste in cui dovevo star via per tanto tempo e quindi mi ritrovavo a dover fare alcune cose un po' all'ultimo di base cerco sempre di mandare loro i materiali da montare ed editare con 7-10 giorni di anticipo e questo perché uno so che gli editor hanno comunque delle vite ed è giusto che non debbano dipendere dalle mie tempistiche di merda perché se io mi organizzo male e registro il video del giovedì il mercoledì pomeriggio sono cazzi miei se voglio che me lo montino per il giorno dopo è giusto che vengano pagati di più per l'urgenza della cosa mi è successo una volta e ho pagato tantissimo un video anche stupido se vogliamo perché era un video semplice era un funny moment però visto che doveva essere editato nel giro di 24 ore il video in questione e io non avevo tempo di farlo l'ho pagato tanto mi pare corretto e in questo periodo sto facendo fatica per fortuna tutti e tre i ragazzi sono molto comprensivi e e sanno che è un periodo così in cui è tosta per me essere ben organizzato ci sto provando tutto questo per dirvi che sono fuso di cervello e che può essere nel caso in cui dovessimo riuscire a organizzare il trasloco per aprile può essere che per una settimana non escano video o comunque esca soltanto quello di fc24 ve lo dico perché preferisco magari rinunciare a due video ma riuscire a traslocare con un attimino più di calma ok niente chiudo questa parentesi detto ciò salve buonasera spero siate tutti quanti bene spero che abbiate passato un buon lunedì e benvenuti a questa che tra parentesi sarà l'unica live della settimana proprio per i motivi che ho spiegato fino ad ora domani sera claudia ha un impegno che aveva preso già mesi fa e quindi giustamente claudia esce e io rimango a casa con sid scilleremo di brutto io con la birretta sid con l'attuccio e ci ubriacheremo guardando Bob la giustadotto in tv è ancora troppo piccolp per guardare cose è completamente cecatp come una talpa ovviamente sto scherzando però io l'attuccio e sid la birra sto scherzando anche qui se non si fosse capito però si domani non ci sono e non ci sarei stato a prescindere anche se non fossi poi dovuto andare via mercoledì per tornare a Bologna domenica pertanto questa è l'ultima live nonché l'unica della settimana e del mese di marzo dopodiché le dirette riprenderanno il primo di aprile giorno in cui comincerà la nuova carriera di FC24 aspettate che facciamo andare gli applausi per questa cosa non sono questi gli applausi finalmente la nuova carriera so che la stavate aspettando perché solitamente non facevo mai passare più di un mesetto un mesetto e mezzo tra una carriera e l'altra talvolta anche meno tipo tre settimane questo giro ne sono passati almeno due di mesi però per cause di forza maggiore non ho potuto fare diversamente cominceremo una nuova carriera carriera che si terrà in un campionato che non è nella top 10 dei campionati secondo il ranking FIFA UEFA pardon e con una squadra che come colori sociali ha il giallo e il rosso quindi questo cosa vuol dire vuol dire che sarà una squadra giallorossa che non è in e ora UEFA coefficienti benissimo vuol dire che non sarà in un campionato di quelli che vado ad elencare Inghilterra quindi Premier League Spagna quindi Liga Italia quindi Serie A Germania quindi Bundesliga Francia Liga Olanda Eredivisie Portogallo Liga Liga Portugal Belgio Pro League la Super League Turca o la Chinch Prem che è quella scozzese non sarà in questi 10 campionati sarà in uno al di fuori di questi 10 con una squadra giallorossa ok Mattia siccome hai detto che non è in Premier League vuol dire che non è neanche in Championship questo io non l'ho mai detto io ho escluso soltanto il Top Flight la Serie A di queste 10 nazioni potrebbe essere in Serie B potrebbe essere in tutt'altro campionato io non dico nient'altro ok e tra l'altro sarà una carriera un po' strana perché andrò a impormi come regola il fatto di dover a ogni calciomercato basare i miei acquisti su delle nazionalità random quindi noi andremo a estrarre 4 nazioni vi faccio un esempio del cazzo adesso le estraggo giusto per fare un esempio random nation generator eccolo qua random country vi faccio un esempio stupido Islanda Comoros Uruguay e il Timor ok se mi escono queste 4 nazioni io devo per forza andare a prendere un giocatore di queste nazionalità qua quindi avremo bisogno di un giocatore del Timor uno dell'Uruguay uno delle Comoros e uno dell'altra nazione che in questo momento ho già rimosso perché sono un pepegotto e la mia memoria è pressoché inesistente e potremo prenderli in qualsiasi ruolo nel senso che se vogliamo possiamo prendere anche 3 portieri e un difensore centrale a una condizione devo sempre vendere il titolare per prendere quello nuovo perciò se dovessi decidere ah l'Islanda ecco se dovessi decidere di prendere un islandese Gudmundson ma per prenderlo devo liberare uno slot sulle fasce devo vendere uno dei due titolari per forza sono obbligato anche se il titolare dovesse essere più forte di Gudmundson stesso poi il fatto che Gudmundson giochi titolare o meno non dipende da la cessione che andiamo a fare però è capito però l'importante è che venga ceduto un titolare proprio perché per quello che è il modo in cui ho pensato alla carriera mi piacerebbe per una volta rendere le cose un attimino più tra molte virgolette realistiche costringendo la squadra in questione a cedere i top perché realisticamente io credo che al mondo di squadre che possono accumulare talenti e giocatori OP senza mai venderli ce ne siano soltanto una manciata Real per blasone conterei il Barcellona economicamente non lo conto in questo momento hai il Real il Liverpool il City il Paris e il Bayern queste con lo United ma anche lì per una questione puramente economica queste cinque secondo me sono le uniche squadre in questo momento storico che possono permettersi di comprare senza vendere ok loro sono gli unici effettivi super team tutte le altre squadre un Barcellona per l'appunto ma il Barcellona è una particolare condizione economica però pensate a un Borussia pensate a all'Inter la Juve il Milan tutte le italiane tutte queste squadre qui sono bene o male costrette a vendere i propri talenti per autofinanziarsi e continuare a giocare un pochettino a fare moneyball e concettualmente è questa l'idea siccome la squadra che andrò a prendere per forza di cose non sarà una di queste cinque top ha senso nella mia testa andare a cedere i giocatori titolari che magari hanno fatto bene per farli giocare in campionati migliori farli giocare o anche semplicemente in squadra non necessariamente in campionati migliori e dar loro la possibilità di crescere tanto mentre tu vai a prenderti qualcuno che li sostituisca qualcuno può essere anche più forte perché potrebbe capitare ma tendenzialmente non lo farò ok benissimo grazie tutto questo anche a mare per il quarto buonasera tier come stai tutto bene un po' stanco ma sto bene posso chiederti una prediction di chi vince la champions guarda prima di cominciare con layton cosa che andremo a fare tra 5 minuti di questo passo faccio una mini prediction di tutti i tabelloni ok d'ignoranza devo mostrare a Noa i Kakamega Boys vabbè Kakamega Homeboys Noa c'è questa squadra del Kenya che si chiama Kakamega Homeboys che no giuro che si chiamano effettivamente così e quello che sto per mostrare a schermo è il loro logo è una squadra che gioca nella serie A del Kenya e questo non questo questo aha questo è il loro logo Kakamega Homeboys con un pallone tagliato male sopra una roccia e due giga pannocchi ai lati sono una squadra del Kenya esistono e io avrei così tanta voglia di comprare una loro maglia è che non le vendono online purtroppo purtroppo non le vendono che non sono neanche troppo brutte queste qua sono le loro maglie questa è la prima questa è la seconda preferisco la prima tra le due non sono così brutte oddio non sono neanche bellissime ma non sono bruttissime il punto è che non le vendono purtroppo comunque si Kakamega Homeboys i ragazzi di casa della Turbo Smerda e grazie a Sfrenato 400 per l'abbonamento premium piccola parentesi vi ricordo che se mi volete supportare anzitutto vi potete iscrivere al canale mi raccomando fatelo ok iscrivetevi sia al primo canale dove carico un sacco di video belli e faccio live sia iscrizione secondo canale ricarico live a Hug devo parlare come facevano parlare i super stereotipati capi delle trimbu autotone degli Stati Uniti d'America per farmi spiegare per spiegarmi decentemente e volevo dire che si iscrivetevi a tutti e due i canali e in secondo luogo sappiate che se mi volete supportare ulteriormente vi potete abbonare al canale abbiamo due livelli di abbonamento quello base che vi da l'emoticon il baggio abbonamento la possibilità di joinare le stanze per soli sub nel server discord e la possibilità di riguardare le live direttamente dal primo canale senza pubblicità e senza dover aspettare due giorni che sono quelli canonici che trascorrono tra l'avvenimento di una live e il ricaricamento di essa sul secondo canale poi abbiamo il livello premium costo 5 euro con il quale oltre a tutte queste cose avete la possibilità di votare determinati sondaggi per decidere alcuni contenuti cosa che non faccio da un po' ma capirete bene che mi torna difficile in questo periodo e un'altra cosa che potete fare con l'abbonamento premium è partecipare a i sub dei strutturati bene tipo le 1v1 tipo altri progetti che ho in mente ma che vi porterò soltanto a partire da quest'estate molto bene ce l'abbiamo fatta? abbiamo finito di parlare? ok al volo Champions League table tabellone va bene ce l'abbiamo quello di quest'anno no 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 oh figa non esiste ce l'abbiamo ce l'abbiamo oh perfetto allora Atletico Borussia questa non la so tosta però eh Atletico Borussia la chiamo passa clamorosamente il Borussia Dortmund con l'Atletico che fa cappa clamorosamente in qualche modo la partita di ritorno visto che giocano al Signal Iduna e quindi potrebbero insomma magari reggere il pareggio in casa farra vincerla ma poi perdere brutalmente in Germania davanti al muro giallo PSG Barcellona qui Luis Enrique contro Chavi due allenatori tutto sommato non poi così diversi eh vedo partita molto chiusa forse passa il Barça anche se il pari teoricamente in realtà è molto equilibrata anche questa partita non c'è non c'è molta disparità però è un 50-50 è un 50-50 dico Barça ma se passasse il pari non mi stupirei Arsenal Bayern qua secondo me Tuchel proprio perde completamente il controllo della squadra che magari è riuscita sia a recuperare la Lazio ma con l'Arsenal non ce la fa quindi passano i Gunners Real City finale anticipata credo che il City possa puntare a ripetersi il che porterebbe le semifinali ad essere Borussia Barça Arsenal City e io voglio credere nel Borussia mi stan simpatici come squadra quindi non posso non simpatizzare il Borussia e augurarle la finale dove incontrerà una tra Arsenal e City con gli Sky Blues che suppongo andranno a battere l'Arsenal in semifinale e poi a piallare il Borussia per questa magica finale City-Borussia che si concluderà con un netto tipo 3-1 ora che l'ho detto sicuramente passeranno l'Atletico il PSG il Bayern e il Real e poi alla fine di tutto vince l'Atletico clamorosamente oppure Mbappé che saluta Parigi con una bella Champions e poi se ne va a Madrid per sollevare la 47esima Champions dei Blancos bene questa è la mia prediction grazie Mare anche per la donation un bacione se volete facciamo anche Europa League e Conference no ho cercato Europa League League questa è problematica l'Europa League League a me serve quella di quest'anno però non quella della perché allora se io ti scrivo Europa League 2024 cercami quella di quest'anno ma porca di quella puttana ma che fastidio no ok ce l'ho finalmente Benfica Marsiglia non conosco nessuna squadra nessuna delle due dico Benfica ma potrebbe succedere di tutto Leverkusen West Ham sarebbe stupido dire West Ham il Leverkusen è ancora imbattuto in questa stagione però prima o poi dovranno inciampare no e credo che potrebbero farlo proprio qui ma dirò comunque Leverkusen Liverpool Atalanta secondo me l'Atalanta andrà meno o peggio di quanto la gente possa pensare la gente si aspetta un 6 a 0 Liverpool un 7 a 1 Liverpool nel totale complessivo tornata e ritorno secondo me l'Atalanta darà battaglia ma alla fine passeranno comunque gli inglesi e infine Milan Roma con la forma attuale direi Roma ma anche il Milan non è che sia in pessima forma però sulle ali dell'entusiasmo forse potrebbe continuare la squadra della capitale ad andare quindi ti ritroveresti Benfica Liverpool con il Liverpool che passa e poi Leverkusen Roma con Leverkusen che passa e poi la finale Liverpool Leverkusen bella domanda bisogna vedere come ci arriva Leverkusen però considerata la maledizione secondo me Leverkusen questo giro non gli va bene per niente questo giro gli va male mentre 23-24 ok abbiamo per la conference Brugge Pauk Olympiacos Fenerbace Aston Villa Lille Victoria Pligen Fiorentina che si incontrano come però o comunque vi dico passano il Brugge Fenerbace Aston Villa e Fiorentina poi le semifinali non so come siano accoppiate per Roma Milan ho detto Roma ma passasse il Milan non sarebbe sbagliato anzi ci starebbe ho detto Roma per i risultati ma anche il Milan sta facendo male ripeto non so chi vince l'europeo quelli con la maglia più bella la Francia mi duole dirlo ma è la Francia non so non so quali siano le semifinali però probabilmente la Aston Villa avrà la meglio bene ciao cominciamo Leighton che sono le 7.46 porca puttana non è neanche iniziato a giocare oggi devo finirlo ma come non serve che tu lo faccia no no devo finirlo perché se poi vado via una settimana devo mandare i materiali a Mirko e non lo faccio ma Mirko mi viene a cercare mi tiene una ammazzata tra capo e collo non è vero non lo farebbe forse no no regà voi grattatevi tutte le parti che devono essere grattate per scaramanzia solo per quello mi raccomando l'importante è che vinca l'amicizia vero non lo so io sono più in hype per gli europei e a tal proposito a me piacerebbe anche commentarli gli europei insieme a voi in live non tutti ovviamente per questioni logistiche non posso essere impegnato pomeriggio e sera tutti i giorni più dover magari la mattina lavorare per realizzare video e abbandonare claudia se stessa con una creatura mi pare brutto però almeno la partita serale quella per un mesetto non si può fare ovvio che vi potete grattare perché prudono ma mi raccomando cioè se vi prudono tanto uno lavatevi se il se il se il plurito persiste visitate uno specialista grazie dove eravamo rimasti bella domanda io non me lo ricordo ah giusto usando don pablo come esca il vero leiton sembra avere la meglio su dimitri sfortunatamente pochi istanti più tardi arrivano i rinforzi di quest'ultimo che riesce a fuggire mentre i nemici vanno loro incontro leiton e gli altri pianificano una fuga rocambolesca tutto qui capitolo 10 sull'altra sponda del tamigi comunque vi stavo anche dicendo che abbiamo scoperto che è tutto quanto collegato intorno alla figura di Claire l'ex fidanzata di Leiton dei tempi dell'università tragicamente scomparsa in seguito ad un'esplosione in un laboratorio in cui stavano proprio studiando la macchina del tempo causata da non sappiamo bene cosa fatto sta che lo scienziato a capo del progetto tale Dimitri Allen che si fa adesso chiamare Allen Stengen non ricordo come avesse iniziato la frase ma è lui la persona a capo del progetto di 10 anni fa l'avevano dato per morto barra disperso ma lui nel frattempo ha continuato a lavorare a questa cosa e ha sviluppato un'effettiva macchina del tempo per provare a tornare indietro a qualche minuto ora giorno prima dell'esplosione e salvare tutti compresa questa Claire Claire che tra l'altro è un pochettino il fulcro di tutto perché è l'ex fidanzata di Layton è un una vecchia fiamma di Don Pablo e tutti quanti vogliono capire cosa è successo e in che cazzo di modo siamo arrivati 10 anni nel futuro bene orca puttana quanti enigmi orca minchia conviene andarle a recuperare gli enigmi ma sai che quasi quasi vabbè qua abbiamo un enigma su una buccia di banana famolo guardate vado a recuperare qualche enigmino in giro qua e là no no è la balena è la balena è l'unico pesce dell'amor è la balena del mio cuor sto cercando di capire ah no qua devo andare è una stronzata dai è solo lungo perché le frecce non non possono essere toccate bene tra l'altro mentre vado in là vi voglio anche dire una cosa che ho fatto ieri con Claudia abbiamo guardato proviamo così il film con l'attrice che è stata premiata come migliore attrice col premio Oscar quest'anno cioè piccole creature no povere creature che film bizzarro ho goduto come un riccio alla fine quando è stato trapiantato un cervello di capra per chi sa sa per gli altri voi direte eh però che film bizzarro esci da Chinatown ma se non volessi e volessi recuperare tutti quanti gli enigmi da Enigmarta non posso vabbè non vorrei perdere troppo tempo per tornare all'hotel prendiamo subito la metropolitana d'accordo professore bene allora le nostre strade si divitano o altre cose di cui occuparmi e come facciamo a sapere che non stai che beh perché mi accusi di una cosa simile davvero mi finisci sto solo andando a lavorare sul mio progetto che ho intenzione di finire molto bene Paolo ci vedremo più tardi quando avrai finito ci troverai piantala Leighton non solo uno sproveduto so dove trovarmi e se n'è andato bella Paolo camar 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 grazie Dimitri è fuggito dalla grande pagoda con il signor Falchi quindi è chiaro che ha un altro nascondiglio nella zona quindi dobbiamo cercare la sua seconda base capito oh ma prima dovremmo tornare all'hotel giusto? sì dobbiamo andare a prendere Flora speriamo che lei e l'altro Luke siano sani e salvi sì sì va bene tutto molto bello ma io prima vorrei fare qualche enigma in più per evitare di rimanere bloccato dopo grazie sì esatto è un'esperienza è strano è bizzarro come film ciao Marta vai rasciatona di enigmi muoviamoci su 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 che palle questi in realtà è stato molto più semplice del previsto alla prima botta questo enigma ha trovato pane per i suoi denti enigma 57 l'artigiano sbadato i piatti numerati che ha ordinato Paillard sono finalmente arrivati ma un momento oh che disdetta cazzo per sbaglio l'artigiano ha dipinto tutti i numeri a rovescio Paillard dovrebbe usarli come allora piano i piatti numerati che ha ordinato Paillard sono finalmente arrivati ma un momento che disdetta per sbaglio l'artigiano ha dipinto tutti i numeri a rovescio Paillard vorrebbe usarli prima possibile ma a quanto pare per sistemare tutti ci vorrà un bel po' per risparmiare tempo l'artigiano gli ha chiesto di tenere i piatti che possono andare bene così come sono e restituire quelli da sistemare spunta solo i piatti che si possono usare allora beh lo 0 e l'1 non hanno problemi di questo tipo pardon devo spuntare i piatti che non possono essere utilizzati ok allora lo 0 va bene l'1 va bene il 2 anche perché se lo giri sotto sopra diventa il 5 e di conseguenza anche il 5 girandolo sotto sopra diventa un 2 stesso discorso per il 3 che se lo giri di 180 gradi diventa 3 4 non riesce a salvarlo in realtà il 4 riesce a salvarlo lo devi girare di 90 gradi in senso anti-orario e riesce a salvarlo forse è solo il 7 quello che non salvi sai perché questo lo giri e diventa un 9 questo lo giri e diventa un 6 l'8 puoi tenerlo così com'è secondo me è solo il 7 credo di essere sulla buona strada ma non dirmi che è anche il 4 ah no è vero il 6 verrebbe storto verrebbe così è su un coglione ma oddio forse il 7 si può salvare vediamo se ho ragione ma vai a cagare Leighton un giorno Re Artù invitò un certo numero di ospiti altolocate alla sua tavola dietro sua richiesta si sedettero tutti ad intervalli regolari l'una dall'altro dopo essersi accomodate due graziose fanciulle presenti Ginevra e Nimue bell'uomo e Nimue trovare uno buffo che nessuna delle due avesse una donna seduta alla propria sinistra o destra oppure di fronte qual è il numero minimo di persone sedute alla tavola rotonda? 5 se la tavola è questa e qua hai Nimue e qua hai Ginevra e qua hai il coglionazzo Re Artù se ne prendi uno e due nessuna delle due ha qualcuno accanto nessuna delle due ha un'altra donna accanto né ce l'ha di fronte in realtà non necessariamente ora che ci penso questo potrebbe essere uno di quegli indovinelli col tranello quindi se questo è il tavolo e consideriamo le persone come sane di mente che quindi si siedono diciamo equidistanti l'una dall'altra camera grazie per la coda allora il numero minimo di persone sarebbe tipo Ginevra qui Nimue qui Re Artù qua e altri due tizi randomici qua giù in questo modo loro due non sarebbero una di fronte all'altra e non avrebbero accanto nessun'altra donna ma siccome è un gioco in fido e bastardo credo che il numero minimo di persone possa essere Re Artù qui Ginevra qui e Nimue qua teoricamente è tutto corretto no no l'ha specificato perché c'è scritto dopo essersi accomodate ecco fatto è sbagliato tre cazzo in quel caso sono vicine teoricamente no però cioè sì ma no parla di donne sedute alla propria destra o sinistra o direttamente alla propria destra e sinistra ecco fatto non è neanche quattro ma vaffanculo era giusto cinque come avevo pensato all'inizio posso dire bullshit e affermare con totale certezza che potevano bastare tre persone vabbè che merda sono convinto che il mio orologio vada indietro di cinque minuti ma in realtà va avanti di cinque minuti cosa? il mio amico è convinto che il suo orologio vada avanti di cinque minuti ma in realtà vada indietro grazie hai ripetuto la frase sopra se ci diamo appuntamento alla stessa ora affidandoci esclusivamente ai nostri orologi quanti minuti prima arriverò? eh il mio amico è convinto che il suo orologio vada avanti di cinque minuti ma in realtà va indietro di cinque minuti se ci diamo appuntamento alla stessa ora affidandoci esclusivamente ai nostri orologi quanti minuti prima arriverò? se dovesse arrivare più tardi del mio amico metti un segno meno davanti alla tua risposta se dovesse arrivare prima invece ti basterà inserire un numero non ho capito un cazzo ah ok pardon scusate non ha ripetuto allora persona A è convinta che il suo orologio sia indietro di cinque minuti ma in realtà è avanti di cinque minuti e allora partiamo da un presupposto ok supponiamo che sull'orologio di questo tipo siano mostrate le ore quattordici lui è convinto che il suo orologio sia indietro quindi quando segna quattordici lui è convinto che siano le quattordici e zero cinque ma in realtà sono le tredici e cinquantacinque ok al contrario l'orologio del suo amico quando c'è scritto quattordici è convinto lui che siano le tredici e cinquantacinque ma in realtà sono le quattordici zero cinque a parte che la soluzione più comoda in questo modo sarebbe scambiarsi gli orologi così sareste perfettamente allineati quindi se si danno appuntamento alla stessa ora e quindi alle quattordici quanti minuti prima arriverà se si danno appuntamento alle quattordici lui è convinto che siano le quattordici cinque quindi cercherà di essere lì per le tredici cinquantacinque ma in realtà arriverà alle quattordici giusto mentre quell'altro d'amico si dice devo arrivare alle quattordici ed è convinto quindi di dover essere lì alle quattordici cinque aspetta no l'appuntamento è alle quattordici persona A è convinta che il suo orologio sia indietro di cinque minuti e che quindi quando segna quattordici in realtà sono le quattordici cinque pertanto madonna aiuto mi mi fanno male le teste ne ho più di una sì allora per darsi appuntamento alle quattordici lui sa nella sua testa che deve essere lì quando il suo orologio segna tredici cinquantacinque ma quando il suo orologio segna tredici cinquantacinque in realtà sono le quattordici e cinque bene quindi ci siamo il suo amico invece pensa pensa che per dover arrivare alle quattordici il suo orologio debba mostrare quattordici cinque ma in realtà siccome il suo orologio è indietro di cinque minuti arrivando alle quattordici cinque dandosi appuntamento alle quattordici vuol dire che lui arriverà alle tredici cinquantacinque pertanto arriverà dieci minuti dopo lo stronzo quindi meno dieci credo di essere sulla buona strada no cosa c'è di sbagliato persona arriva dieci minuti dopo quindi arriva meno dieci minuti prima Ok Perché dovresti arrivare 5 minuti prima? Ho fatto un ragionamento opposto In realtà è 10 Vediamo se ho ragione Mi sento stupido Credo di essere sulla buona strada Proprio come pensavo Ho capito minimamente Il mio orologio Va 5 minuti avanti Io però sono convinto Vado a 5 minuti indietro Quindi arriverò 5 minuti prima dell'ora stabilita E sono in realtà 10 Non è il contrario Questo continuo a non capirlo Cioè Facendo l'esempio con le 2 di pomeriggio Se io devo andare lì alle 2 Ma sono convinto che il mio Sia 5 minuti indietro Vorrà dire che arriverò lì Alle 13.55 Ma in realtà è 5 minuti avanti Quindi Arrivo lì alle 14.05 Il mio amico al contrario Arriva lì alle 1.55 Oppure ho sbagliato Fin lì c'era arrivato Christian Non capisco per quale motivo Le cose mi vengono al contrario Cioè A me viene fuori che Lui è convinto che il suorologio Il suorologio vada a 7.55 Ah In quel senso vada indietro Che deve essere qui di lui Ah vaffanculo E allora sì Ho letto Ho capito proprio male all'inizio Il mio errore Il mio errore è stato in partenza Io con quel Vada 5 minuti indietro Lo intendevo come un Il tempo sull'orologio scorre In maniera corretta Ma In anticipo di 5 minuti Invece no Con vada E un vada regolato 5 minuti indietro Allora sì Allora sì Allora sì Allora sì Allora sì Continuo a non capire Ma va bene, poco importa Hai deciso di macinare un po' di grano per ottenere della farina da riporre in un luogo asciutto e sicuro come scorta Hai creato tre scatole differenti adatte alla conservazione Quale di esse può contenere una maggiore quantità di farina? B Oppure A Perché teoricamente A se la capovolgi Ecco la mia risposta Sì, A se lo capovolgi Questa era stupida, mi sono fatto ingannare Perché temevo ci fosse la ciabada da quiz per la patente Che dice Eh no, non c'è scritto che potevi capovolgerla, coglione Sto pensando troppo oltre, devo andare più semplice Sistema questi libri di uguale spessore Nello scaffale rispettando le seguenti condizioni Non ci sono libri a sinistra di quello marrone Ok Solo il libro azzurro tocca quello marrone Il libro giallo si trova a sinistro di quello bianco Il libro azzurro tocca quello viola In che senso il libro? Allora l'ordine giusto è questo Quindi marrone Lu Viola Giallo Viola bianco giallo Amar Amar Allora Non ci sono libri a sinistra di quello marrone E così mi piace Solo il libro azzurro tocca quello marrone Il libro viola Tocca quello azzurro Ha senso? Non ci sono libri a sinistra di quello marrone Corretto Solo il libro azzurro tocca quello marrone Corretto Il libro giallo si trova a sinistra di quello bianco Incorretto Ora è corretto Il libro azzurro tocca quello viola Sì Il libro bianco si trova tra i libri giallo e viola Senza toccarne nessun altro Non è possibile A meno che non sia così Non ci sono libri a sinistra di quello marrone Vero Solo il libro azzurro tocca quello marrone Vero Il libro giallo si trova a sinistra di quello bianco True Il libro azzurro tocca quello viola Altrettanto True Il libro bianco si trova a tre libri giallo e viola Senza toccarne nessun altro C'è uno spazio vuoto per un libro accanto a quello giallo C'è uno spazio vuoto Il libro bianco si trova tra i libri giallo e viola Senza toccarne nessun altro Però quei due li può toccare Ecco fatto Ok Tre ragazzini stanno ammirando una macchina in vendita per 12 sterlini Sì magari raga Ah una macchinina Pardon Se Pete e io mettiamo insieme tutta la paghetta Potremmo comprarci la macchinina tra due settimane Quindi vuol dire che prendono tipo In media Tre dollari a persona Beh Pete e io tra sei settimane No Vuol dire che sei settimane Oh madonna Allora 12 è il totale no Jeff e Pete In una settimana Fanno sei più sei Poi Sam e Pete La possono prendere in tre settimane Sam e Pete Quindi Avremmo 4 Più 4 Più 4 Ok Mentre Sam e Jeff Sei settimane Quindi 2 Più 2 Più 2 Più 2 Più 2 Più 2 Ok Cosa vuol dire questo? Che Sam prende 0 Quindi abbiamo Jeff che prende 4 Pardon Pete prende 4 Jeff prende 2 E infine Sam prende 0 Proviamo così Maledetto bastardo ladro approfittatore Questo negozio vende solo prodotti a 1, 2 o 3 sterline Acquistando 2 prodotti allo stesso costo puoi avere il terzo a metà prezzo Ok quindi se una roba costa 2 il terzo lo paghi 1 Bene quindi paghi 5 per 3 invece che 6 per 3 Hai acquistato 6 prodotti e hai speso 9,5 sterline Quanti prodotti da 1, 2 o 3 sterline hai acquistato? Ok Quindi Anche qui In realtà è abbastanza semplice Se ho preso 6 prodotti a 9,5 sterline potrei aver preso Tipo 1 1 1,5 Il che port... No Pardon 3 3 Allora Qua abbiamo un massimo di 4,50 euro Qua potresti fare 3,4 euro E una metà Ah Fatto Hai preso 3 zucche E 3 barattoli Ah però ho portato almeno uno per ciascun prezzo E allora ho fatto così Ho portato a casa 1,2,3 I 3 barattoli sono 7,50 Hai ragione Secondo me qua ne hai portato a casa soltanto uno Che costa 3 Così ci stiamo Perché spendi 3 qua Più 2,5 Più altri 2,7 8,9 Il terzo a metà prezzo Vai Ultimo enigma da recuperare Poi possiamo continuare Eh vi lo giuro Una sgangherata banda di ladri è stata acciuffata poco prima di poter mettere in atto il losco piano ideato dal capo Dobbiamo nascondere questi 10 lingotti d'oro in questo muro di mattoni Nessuno se ne accorgerà Li terremo qui finché non si calmeranno le acque Ah e dimenticavo la cosa più importante I lingotti più piccoli non vanno messi sopra di quelli più E i più grandi vanno Ok I più grandi vanno sotto Buona sapersi Huh I lingotti più grandi non vanno messi sopra quelli più piccoli. Bene. Porca putta. Buongiorno. 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 Così è tutto a posto. Non, non c'è nessuno lingotto più grande rispetto a quello che gli sta sotto. Invece sì Porca minchia Così invece funziona tutto Ok ci siamo Enigmi risolti Corriamo di nuovo all'hotel Grazie Marta Grazie a tutti quanti Gli abitanti di Chinatown È stato bello Tornerò a mangiarmi un bao O due Volo all'hotel Altrimenti Mirko mi ammazza Perché perdo tempo Dai 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 Veloce 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 Dunque Dimitri sta costruendo Una macchina del tempo Per tornare nel passato E salvare Claire Esatto O almeno così ha detto Strano Non ho mai visto niente Che assomigliasse a una macchina Del gen... De... Che strano Non ho visto niente Che assomigliasse A una macchina del tempo Sui vari piani della pagoda Eccellente osservazione Ragazzo mio È chiaro Che fosse diretto In un luogo preciso Quando è fuggito Dalla grande pagoda Penso che volesse Raggiungere la struttura Dove conduce le ricerche Sui viaggi del tempo È quella struttura Che stava cercando Mentre noi eravamo Nella pagoda Con Don Pablo Sì Beh almeno in parte Io dirò tutto Quando saremo da flora E il luogo grande Fino ad allora Vorrei che cercassi Di farti una tua idea Su questa situazione Io continuo Non averci capito Un cazzo Ma va bene Entriamo E saliamo Al piano di sopra Professore Luke Bentornati Ah Sono felice Di vedere che state bene Posso dire lo stesso Cara Spero che uscire Dalla pagoda Non sia stato Troppo difficile Per te Per nulla Luke grande È stato così gentile Da mostrarmi la via A proposito di Luke grande Dove cazzo sta? Oh Beh Quando siamo tornati qui Un uomo con la barba Vestito di nero Stava aspettando Nell'atrio Era vestito di nero Dalla testa ai piedi? Sì Dalla testa Ai piedi Piedi Ricorda tanto Shipley Beh Chiunque fosse Si è rivolto Direttamente Luke Ha iniziato a discutere In modo concitato A un certo punto Luke si è arrabbiato Ha detto Pardon Rabbuiato Flora C'è una cosa importante Di cui devo occuparmi subito Per favore Di al professore Di Di in questo caso Avrebbe l'apostrofo Comunque Se proprio vogliamo fare I cacapalle Cioè Traduttori Insomma Le differenze Tra gli apostrofi E gli accenti Sono importanti Quello è un imperativo Quindi è un Di Con l'apostrofo Qua D Vuol dire Giorno Vabbè Scusate Per favore Flora Giorno al professore Di proseguire la sua indagine Senza di me Per ora Ti ha detto Dove sarebbe andato No ma Ha promesso Che si sarebbe Fatto vivo Più tardi Io grande Ancora più Perspicace Di quanto pensassi Conosce già La nostra prossima Mossa Professore Qualcosa non va No niente Sto solo ripensando A una cosa Che cosa Professore La merda rosa Allora Ricordi Chi ci ha detto Per primo Che avevamo Viaggiato nel futuro Beh Beh Credo che sia stato Lio Grande Sì Sì È proprio così Eccolo che rientra Ah no È Becky Salve A visite Professor Che cazzo Emo Li perdoni Se piombo Qui All'improvviso Oh L'ispettore Celvi Salve Bella Bru Cosa posso fare Per lei L maiuscola E Cazzo Qua la L Andrebbe maiuscola È un lei In segno di rispetto Quindi non è Lei piccola Lei piccola Sarebbe Flora O Becky Troppo cacapalle Forse sì Stavo pensando A una cosa Che ero Troppo Vintesplorano La città Non so Non so Come spiegarmi Che vorrei apparire Ridicolo Però Beh Cosa c'è Di ridicolo Oltre al suo Stupido Baffo Dai È solo Che Potrei sbagliare Mi ha stato Piuttosto Sicuro Di ciò Che ho Visto Ricorda La nostra Chiacchierata Se l'esplosione Nel laboratorio Di fisica Polidimensionale Vero Vede Qualche minuto Fa Ho visto Perfetto Una donna Identica A una Delle Rittime Caspita Sta parlando Di Claire Non è Così Oh Quindi Sapete Perché Sono così Irrigidito Nelle Mutande Sì Ispettore Anche noi Abbiamo incontrato Quella donna Sa Lei e Claire Sono due gocce D'acqua Ma È una Coincidenza Deve Esserlo Sì Immagino Che abbia ragione Mi perdoni Non Stavo pensando Con chiarezza Con Clarezza Eh In ogni caso Ci deve essere Una spiegazione Logica Su via Se la somiglianza Non è casuale Forse Quella donna È un'apparente Di Claire Magari Una cugina Ok Da un'occhiata Adesso fai Per vedere Se scopro Confioso Di giusto La sua famiglia E nel caso Si ricordi Signor Layton Non c'è cose Per dirla Che sposarsi No Non sposarsi Ho rovinato La gag Ah tra un'altro L'avete visto Barton Da queste parti Vero Barton No Non mi pare Proprio Beh Oh no Ho schippato Il dialogo Riparto In ogni caso Se lo vede Mi vede Che il suo capo La cerca Arrivederci Allora Dove ci porterà Adesso La nostra avventura Professore Flola Questa non è Un'avventura Hai capito Cazzona È un'indagine Non riesce Ah no È Luke Vabbè Beh apprezzo Il tuo entusiasmo Flora Noi tre Andremo in fondo A questa storia Insieme Ora però Usciamo da qui Ho faccappato Un sacco di cose Nell'arco di due minuti Mio dio Worst streamer ever Mirko La prima volta Che ci incontriamo Tirammi uno scappellotto Perché c'è meno merito Oh Becky Sì ci leviamo dal cazzo Tra l'altro Becky Mi chiedevo Se qui vicino Ci fosse un passaggio Per attraversare il Tamigi C'è un ponte Ma è molto lontano Sa Mi scusi signore Ho capito bene Vesitano attraversare Il Tamigi Ah no Non sapevo Fossi sveglia Un tempo C'era un tunnel Sotterraneo Che portava Sulla riva apposta Passava proprio Sotto il Tamigi La gente Sbucava dall'altra parte Wow Un tunnel sotto il fiume Incredibile Sfortunatamente però Ah sì Credo di averlo già incontrato Questo suo amico Sa Ah ecco Stavo per dire È lui Dov'è finito Luke Era qui un attimo fa State cercando Luke È uscito due secondi fa Da solo Ma dove potrà mai essere andato La prego di scusatemi signora Ma devo cercare il mio amico Grazie delle informazioni su web Sì figuri Bella Professore sono preoccupata Dove sei andato Luke Non lo so ma Condivido la tua preoccupazione Non è da lui Sparire senza dire una parola Forse sta cercando Di imitare la sua sparizione Prima che entrassimo Nella grande pagoda Beh Indipendentemente Dalle sue ragioni Non dovrebbe andare in giro Da solo Dobbiamo trovarlo Abbiamo detto Che dovrebbe tornare Al mercato nero Da web Vero Ma io che cazzo Non so di dove potrebbe essere Barton Niam Niam Oh Salve professore Posso Non Esserle Utile Barton Hai visto Luke Girarsi in questa zona Per caso No Lo signore Si è perso Comincio a pensare Che sia andata così Il fatto è che Non riesco a capire Dove possa essere Questo È sicuramente Un problema Eeeh Oh Oh e Già che parliamo Di persone scomparse Dovresti sapere Che l'ispettore Ti sta cercando Oh Tapisco Fagli sapere Dove ti trovi Ogni tempo D'accordo? Sì Sì Signore Glielo dirò Non appena avrò Finito questo Spuntino Grazie Barton Davvero Lo sto per fare Parliamo Alla tizia Per chiederle Se hai visto Luke Oh Yoho L'amico di Luke Ah Mister Jim di nuovo Perché so Ma questo Ma questo mio piccolo Dolce Luke Ah Ciao tizia stramba Credo che anche tu Non abbia visto Luke Poco fa Sei andato da solo E nessuno l'ha più visto Cosa? Il riempito Il pazzo È scomparso Oh Povero Luke Spero non gli sia Capitato niente Non c'è bisogno Di armarsi Tranquilla Ma se lo vedi Digli che lo sto cercando Per favore Ma cosa dice? Il mio fustazione È sparito Se serve Ci vorrò Ma i punti Per trovarlo Ma è qui Lo fluchino Ora mio Ti sono io Oh cielo Non pensavo Che Vanessa Potesse correre Così veloce Vabbè Addio Vanessa Sto cercando di capire Dove potrebbe essere andato Anche a rigordi logica È andato allastato Eccolo qui Sta frignando Il bro Loser Coglionazzo Liu Che ecco dove cazzo Hai finito Oh Salve professore Vedo che hai deciso Di fare due passi Ti va se mi unisco a te? Sicuro Scusi Se me ne sono andato Senza dire niente Stavo Beh Stavo pensando Sa Ci siamo divertiti Così tanto Negli ultimi anni E mi sono abituato A stare sempre con lei Ovviamente Dopotutto Siamo grandi amici No? È normale Trascorrere molto tempo Assieme Oddio Non è tanto normale Che un adulto Un professore Di un'università Passi così tanto tempo Con un ragazzino Di otto anni Con cui non ha nessun legame Però Ma L'altro giorno Papà mi ha detto Che verrà trasferito Quindi Dovremmo cambiare città Ah sì Tuo padre Me ne ha parlato E anche tua madre Mentre me la chiamavo Dimmi Luke Tu credi Nella nostra amicizia? Ma certo Come cazzo Può farmi Una domanda del genere Uh Bene Allora Non c'è motivo Di preoccuparsi Sai Vedi Tra veri amici Si instaura Un legame speciale Ed è un legame Che non si rompe Neanche se migliaia Di chilometri Li separano La distanza E il tempo Non possono influenzare La profonda amicizia Che unisce due persone Capisci? Sì Penso Penso di sì Professore Eccellente Allora torniamo Alla nostra indagine Abbiamo molti misteri Da risolvere Ottima idea Professore Bene Sono contento Di vederti di nuovo Sorridere Ragazzo mio Ora Mi sai dire Qual è la nostra Prossima destinazione? Ci ho riflettuto a lungo E penso che Dimitri Si è fuggito Dove sta costruendo La macchina del tempo Ma dov'è questo luogo? Sappiamo già Che il suo laboratorio Di ricerca Non è nella grande pagoda Esatto Quindi dobbiamo Riesaminare Gli indizi raccolti Durante la nostra Indagine In questa Londra Non c'è niente In città Che ti è sembrato Sospetto? Oh ma certo Tutti quegli uomini In camicie Che abbiamo incontrato Erano senza dubbio La Ha detto Camicie o Camici Vabbè Erano senza dubbio Camici da laboratorio Quindi Forse hanno a che fare Con le ricerche di Dimitri Ottimo Ora analizziamo Questo aspetto Ne abbiamo visti Molti di uomini In camicie Sì ok Era camicie Non camicie A parte il loro abbigliamento Cos'altro avevano in comune? Oh Ma certo Le loro scarpe E i loro pantaloni Erano turbo fradici Mmm Piedini bagnati Flora Continuiti per favore In ogni caso Dovevano venire Da un posto Dove c'è dell'acqua Giusto? Ma dove? Beh Che ne dite Dette amici Magari hanno raggiunto Questa parte della città Usando il tunnel sotterraneo Ehm Flora Quale tunnel sotterraneo? Abbiamo chiesto Alla signora dell'hotel Come attraversare il fiume Lei già ha parlato Di questo tunnel Miau Sì abbiamo incontrato Diversi scienziati Durante il nostro soggiorno In questa città E nonostante Non siano stati generosi Nel fornirci dettagli È chiaro da dove venissero La mia ipotesi È che questi uomini Lavorino in un centro Di ricerca Nei pressi del Tamigi E che vengano in città Per rilassarsi Dopo lunghe ore di lavoro È una teoria Che ha sempre avuto in mente Professore Sì Diciamo che ci sto lavorando Da un po' D'altra parte Chi è che se ne va in giro Con i pantaloni bagnati Io perché mi ci svincio dentro Per questo motivo Credo che questo centro Di ricerca Ci trovi da qualche parte Sull'altra sponda Del Tamigi Fantastico Andiamo ancora a farne di strada Per non riuscire a ragionare Come lei Eh professore Eh già Sei proprio un coglioncello D'accordo ragazzi Dobbiamo tornare Al mercato nero Perché laggiù Se vogliamo attraversare Il Tamigi Non dovremmo raggiungere la riva Prima o poi Ci arriveremo Tranquillo Ma prima Dobbiamo parlare Con quell'uovo Che sopracciglioni al mercato Si chiama Web Mi pare Ah se lo dici tu Bene Torniamo al mercato nero Salve uomo mento culo Dove cazzo stava Il mercato nero Regà Mi sono già dimenticato Non era Era prima o dopo Chinatown Prima Eccolo qui Web Salve Buongiorno Web Oh oh Non sentivo pronunciare Il mio vero nome Da un pezzo Che gliel'ha detto È stata la proprietaria Dell'hotel Ah la cara Vecchia Maggie Può incutere il timore Ma infonto È una brava donna Infonto Ad ogni modo Cosa posso fare Per lei Stiamo cercando Il modo Per attraversare Il Tamigi Da qui Ci è stato detto Che lei Può aiutarci Beh Avete provato A saltare Sono proprio Un buffone In ogni caso Ci sono delle barche Attraccate davanti Al Thames Arms Ma sono riservato Alla famiglia E alla sua squadra Di tirapiedi Allo stesso tempo Però Mi è stato riferito Che lei Conosce un'altra via Ah Allora Maggie Ha votato il sacco Eh Più o meno D'accordo Ma non è un gioco Da ragazzi Se davvero Volete andare Dall'altra parte Del Tamigi Devo almeno Assicurarmi Che abbiate il cervello Per non lasciarci Le penne Ah yes Classico Enigma Randomico Blocchi Su blocchi Ok L'abbiamo già fatto Un'altra volta Questo L'importante è Girare a cazzo di cane Un'altra volta Cazzo Allora Vaffanculo Mi sbaglio sempre Arrivato a quel punto Arrivato a quel punto Che palle Allora Ero riuscito a completarlo Ma con il rosso e il giallo invertiti Come faccio io adesso a metterli al posto giusto A metterli al posto giusto Allora Iro riuscito a metterli al posto giusto Grazie a tutti. Ce l'abbiamo fatta. Evviva. Alleluia. Oh, yes. Oh, Lars, come osi definirmi top 1 ingobliniti? Ce n'è almeno uno che è peggio di me, di Goblin. E prendi il nome di Novelli Diego. Come stai, patato? Accetto il secondo posto. La medaglia d'argento mi si addice, ma... Più di Diego è impossibile. Lungo la riva del Tamigi c'è una porta che conduce a un tunnel sotto il fiume. Aprire quella porta non sarà una passeggiata, ma c'è un trucco. Dovete usare un interruttore. Una porta elettrica. Fico. Bla 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 bla. Molto bene. Grazie, arrivederci. Fuori dal cazzo, signor Webb. Chiedo umilmente Venia. Sento un esemplare di Seed particolarmente incazzato. Vado a controllare e torno. Un esemplare di Seed particolarmente incazzato. Un esemplare di Seed particolarmente incazzato. Un esemplare di Seed particolarmente incazzato. Glória d'reichen. Un esemplare di Falcons. Un esemplare di Seed particolarmente incazzato. Un esemplare di casa. Un esempla di Yahshia. Un esemplare di defence question typola alnajduante incazzato. Un esemplare di correggolenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sta bene la prole. Fanno i tragici. Camarnò, 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 camarnò. Perché devi essere in mezzo alle... Oh, sei brava tutto il giorno mentre sono in là e ti impazzisci. Ok. Guardate, quella deve essere la porta di cui parlava Webb. Hai ragione, Flora. Ora non ci resta che trovare l'interrottore che l'apre. Devo per forza parlare con questa sorta di Super Mario fatto male. Fa vedere? No, non bevo. Perfetto. Brava, brava. Alla, brava. Tombola! Quindi è questo l'interrottore di cui ci ha parlato Webb? Penso di poter decifrare il codice. Hmm, vediamo. Ah yes, momento enigma. Il gioco degli zeri. È possibile in ciascuno dei quattro quadrati qui sotto... Piano. In ciascuno dei quattro quadrati qui sotto è possibile far comparire i numeri da 0 a 9, toccando ciascuno dei quattro pulsanti A, B, C e D. Compariranno dei numeri diversi in base alle regole prestabilite. Scopri di quale regola si tratta e imposta tutti i numeri sullo 0. Ok. Grazie Federico intanto per la donation da 6 Roizi. Un gigabacione. Thank you very much. Ok. Devo portare tutto a 0. Se premo A, andiamo avanti di 5. Se premo B... Andiamo avanti di 3. Sì, andiamo avanti di 3. C. Mi fa andare indietro di 3. D. Di 6. Ecco la mia risposta. Sono un drago, cazzo. Che sollievo. Ha funzionato! Yahoo! Football Manager sarebbe bello, ma devo imparare a giocarci prima di portarlo. Eh, questo posto è sporchissimo! Eh, a quanto pare, nessuno si occupa del tunnel da un po'. C'è acqua ovunque e sta cadendo a pezzi. Non c'è modo di percorrerlo senza inzupparsi i pantaloni, evidentemente. Eh, non mi stupisco che quelli scienziati non avessero mai pantalotti asciuti... P-pantalotti? Non mi stupisco che quelli scienziati non avessero mai pantaloni asciutti, allora. Ehi, per una volta non ho premuto a caso, ma sì, sarei stato uno di quelli. Dato che le barche della zona sono controllate dalla famiglia, attraversare il Tamigia è un'impresa. Il tunnel è il modo migliore per passare indisturbati da una riva all'altra. Professore! Luke! Aspettate! Se mettiamo piedi qui dentro, ci bagneremo tutti! So che è dura, ma a volte, per trovare la verità, bisogna fare dei sacrifici. Sì, sì, facile per te parlare, Luke. Tu indossi pantaloni corti. E tu ingossi la donna. Ingossi la donna? No, questa è tremenda! Ma io perché faccio questo lavoro se non sono in grado di parlare e continuo a invertire le lettere? Ti prego! Ti prego! Tu ingossi la donna! Oio! Tu ingossi la donna! Tu ingossi la donna! Tu ingossi la donna! me la sono salvata questa non si sa mai oh signor world salve di nuovo che palle eh guarda un po' che abbiamo qui lei ehi pensavo che in questo posto non ci fossero guardie ti sbagli ragazzo io non sono una guardia faccio solo una pausa ma ora che vi ho visti non posso certo lasciarvi andare senza fare una piega senta non scassi il cazzo ok non può guardare dall'altra parte eh state andando al centro di ricerca eh come vi pare dopo tutto non sono in servizio ma questo non vuol dire che non mi attenga del standard se non restate all'altezza resterete qui ah enigma ah 80 enigmi già fatti eh che importa se passate tanto non fermate il capo nessuno ha il cervello per farlo e ora che conosci le vostre intenzioni è solo una questione di tempo prima che vi cattoni ma questo lo vedremo beh la mia pausa è finita non penso ci vedremo di nuovo quindi addios gran guardia frate complimenti e grazie Dennis per il settimo un bacione dear se hai bisogno di vestiti da neonat ne ho da parte da regalare fra abbiamo ricevuto vestiti dalla qualunque però grazie per per il bel gesto thank you piuttosto li porti tipo negli ospedali nei nei consultori c'è sempre gente che ne ha bisogno ma basta partire questa partiera wow va che roba beh possiamo dire di essere arrivati al centro di ricerca di Dimitri pensa che il primo ministro sia venuto a bigioniero qui professore è molto probabile e ciò significa che questo posto è sotto stretta sorveglianza occhi aperti ragazzi no vi prego non fateli dire va che robetta come se fosse fede capitolo 11 il laboratorio della macchina del tempo come sospettavo non riusciremo a passare il cancello senza farci notare forse da qualche parte c'è un ingresso meno in vista ottima idea professore esplorando la zona potremo trovare un altro modo per entrare ah tutto qui ok ehi potremmo passare di qui anche se è un po' stretto tranquillo Luke tua mamma era ben più stretta eppure son passato lo stesso sì 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 raga concludiamo oggi in questa live questa mappa contiene le istruzioni per disattivare le trappole della porta uno tra i quattro pulsanti A B C e D è in grado di disattivarle per scoprire di quale si tratta traccia un percorso che partendo dalla casella centrale passi da una casella all'altra in orizzontale o in verticale nell'ordine rosso blu giallo fino ad arrivare al pulsante corretto ok quindi rosso blu giallo 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 rosso blu tu hai visto rosso blu no rosso blu giallo rosso blu giallo rosso blu giallo forse giallo rosso blu giallo rosso è la Incrociamo le dita Nice Prendi questo, Enigma Poverino, che ti ha fatto, Flora? Ah, sì, ce l'ho fatta, sì Chissà cosa sarebbe successo se non avessi risolto quell'Enigma, eh? Beh, l'avrei risolto io, ma grazie comunque, Flora Finalmente, sono lieto di vedere che siete stati in grado di risolvere il mio Enigma Ma Don Pablo, mo A rompere il cazzo stai, ma ti sembra? Oh, bella Paolo Salve Don Pablo Ragazzo, sono spuccato dall'ombra Almeno fai finta di essere sorpreso, dai Paolo, come topo minchia hai fatto ad attraversare il Tamici prima di noi, scusa La scala èata di essere sorpreso, dai E' stato che ha fatto ad attraversare il Tamici prima di me, scusa Ma non è che sia stato disegnato, dai scena è stata pinta gratta perché vuole entrare vado alla porta apro la porta lei mi guarda io la guardo vieni pinta e se ne va ma porca puttana lascia che ti dica qualcosa sui veri gentiluomini sai leiton un vero gentiluomo mantiene sempre i propri segreti quindi non mi sbottonerò camera basta camera basta calmati stasera probabilmente avrò usato quel suo trabiccolo volante per non è un trabiccolo e mi sembra di essere stato chiaro ok non vedrò come ho fatto accidenti che rompi i coglioni sei con me mi vuoi menà altrimenti ci veniamo a vicenda eh oh che fai mi picchi la bottiglia è agitata amore lo so c'è bimbo perché è in turbo crisi molto bene paolo complimenti vabbè adesso andiamo avanti buona giornata questa scala ci porterà al laboratorio di ricerca ah si capitano ovvio dalle scosse fatevi da parte vada coglioni faccio strada io ma basta non passarmi sulla tastiera io ti voglio bene ma se prima in tasca ho sbagliato in tasca ho sbagliato i cappelli di ricerca ok e non posso far male questo quindi voglio bene ma per piacere per stare lì nella tua sedia lì sopra ai fogli vari che ho oppure in cima oppure sul divano ma non sulla tastiera ti prego ti sto dando quattro scelte puoi stare in tutta quanta guarda puoi stare in realtà in tutto quanto l'ufficio e sul portatile che ho sulla scrivania ok per il resto sei libera di stare dove ti pare scusate oggi va così che cazzo dici stronzo sono io il più giovane e anche il più agile dovrei andare avanti io essere il più agile non ti rende il primo ti rende una scimmia coglioncello levati di palle levati di palle va beh non mi sembra un atteggiamento da adulto al tuo oh don pablo che delusione era così gentile e ragionevole travestito da professor layton certo quando interpreto un ruolo occuro tutto nei minimi dettagli fino al modo in cui layton scimmiota un gentiluomo per entrare nelle grazie di tutti ovviamente è una cosa terribile da dire il professore è un vero gentiluomo come vuoi perché non concludiamo il dibattito con un enigma che palle o ma manco stessimo facendo un gioco con gli enigmi puzzle dai che due coglioni muoviti qui puoi vedere una strana impalcatura devi ispezionare ogni scale e trave partendo partendo dalla freccia e passando nell'ordine attraverso i punti a b c e d non puoi passare due volte sulla stessa porzione di trave fanno eccezione la base o la cima ok ora si sta girando tra i cavi allora partendo da qui devo esaminarli in ordine quindi sarà a e poi scendo vado fin qua b poi salgo vado su giro attorno scendo c a 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 b a c ...she... ...e no. Mmm Mmm Io parto dalla freccia Quindi per forza Devo passare da qua Ok Camar fai la brava Ti prego Mettiti giù Non iniziare a saltare sulle travi Ti supplico Ti supplico Non ce la posso fare Oggi non ho la testa e l'energia mentale Please Allora Dopo B Presumibilmente mi tocca fare questo giro Poi C Ah in realtà potrei anche fare questo lavoro qua Quindi partendo da qui Patrick è incredibile In che senso l'ho fatto giusto Già tre volte Ciao 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 ecco fatto ah ma vero ma che coglione cioè io pensavo che una volta arrivati a D si dovesse interrompere il percorso e vabbè sono uno scemo vabbè ritiro tutto allora la tua zucca non è vuota come sembra in realtà lo è è che sono distrutto ok gente via è libera potete passare ah questo sembra proprio un passaggio sotterraneo per trasportare materiali di ricerca scommetto che questo tunnel arriva fino al Tamigi mi sembra molto sicuro troppo sicuro ricorda con cui stai parlando ragazzo nessuno si intende di laboratori segreti più di Don Pablo cosa ho combinato? ok beh sì immagino che tutti abbiano qualche tipo di hobby oh porca di quella cosa c'è professore? i materiali che hanno qui sembrano ma non può essere come l'ho detto eh? questa sala cinesca di metallo spara la strada inizia a pensare che non siamo i benvenuti qui naturalmente Flora è così che lavorano i criminali coglioncella più roschi sono i loro affari più precauzioni prendono vedi hanno persino lasciato un'enigua sulla settatura di questa sala cinesca ah yes perché un buon vecchio no no pardon yes perché un buon vecchio lucchetto non bastava no? raggiungi il quadrato rosso partendo da quello verde raggiungi il quadrato rosso partendo da quello verde dov'è il tranello? beh puoi muoverti soltanto verso quei numeri che sono di una cifra più grande o più piccola raggiungi il quadrato rosso rispettando questa regola e la porta si aprirà ogni numero che toccherai si illuminerà assicurati che tutti i numeri sul tuo... ok ci siamo 1 2 3 4 3 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 ecco fatto certo che lo conosco lockpicking lawyer vuoi mettere come fai a non conoscere uno dei canali più belli di sempre? aha quella serratura non aveva scampo contro di me gliel'ho fatta vedere io beh spero che non ti sia piaciuto troppo forza la serratura eh non vorrei diventare un criminale eh no non ti preoccupare Flora non... ancora dai continuiamo a correre oh voce sbagliata co-cosa ci fate qua giù voi? shh coglione abbassi la voce siamo venuti a salvarla non capisco non c'è niente da tenere buon uomo sappiamo tutto sappiamo cosa ha combinato la notte del 12 aprile del 1935 non so neanche cosa sia successo però va bene 12 aprile 1935 nulla di che signor Lazio lei è stato rapito dalla famiglia o meglio da Dimitri Allen e adesso la costringono a lavorare su questo progetto non è così? Dimitri Allen sapete chi è? ma voi chi siete esattamente? io sono il vero professor Leighton Dimitri ha usato il mio nome per i suoi fini ah capisco mi ricordo di aver sentito che lei è un archeo... sì vabbè italiano mi ricordo di aver sentito che lei è un archeologo sì adesso tutto mi torna sapeste quanto mi atturbato scoprire che in realtà Leighton era Dimitri Orazio gli altri scienziati sono al corrente della vera identità di Dimitri alcuni ma non oso parlarne con la gente che è qui pensi a cosa mi accadrebbe se la famiglia venisse a sapere che diffondo certe informazioni capisco scusi se la disturbo signor Orazio ma per caso sa dirmi se Dimitri si trova qui a volte vai viene a presto nascondetevi arrivano delle guardie oh no Warton e Walmy questo fosto sembra una cella frigorifera non capisco perché dobbiamo stare qui ci troveremo al massimo un topastro ti odio Geronimo Stilton ti ricordi come ci siamo fatti bucchia ok buggerare definizione buggerare truffare e in maniera molto disueta anche sodomizzare buono ti ricordi come ci siamo fatti sodomizzare prima eccomo che siamo che siamo qui è la nostra punizione c'è una like a bere se posto sempre che ti lagni ti darò una lezione con i occhi vorrei essere rimasto a scuola questo lavoro mi ha dato solo guai stay in school vaffanculo stay in school kids taci il nostro torno finisce tra dieci ore poi potremo tornare a casa sembra che il tempo passi ti fai smetti di rallentarti raccolta qualche barzelletta franeo una fantastica praticamente c'è questo tipo che entra tutto quanto affannato all'interno di uno studio medico dottore dottore la prego mi aiuti credo di essere una falena ma mi scusi risponde il dottore io sono un dentista in che modo la posso aiutare boh c'era la luce accesa scusate avete sentito quella battuta faceva veramente cagare sì e quei due rimarranno di guardia per le prossime dieci ore io io torno indietro le guardie mi conoscono se vado da solo non mi fermeranno un momento penso che anche noi potremmo il perpassare le guardie senza farci notare sai ma come non è nel mio stile ma ha mali estremi estremi rimedi la co le vuole strozzare pog ah no fai cadere questa cassa di legno sui tirapiedi pipo pog fallo immediatamente allora pimpom patapim no pata ho pom bene ะ pm parampapapapapapapapapapapapapapapapom bene cazzo aha così dovrebbe andare abbiamo appena commesso un duplice omicidio come soddisfazione fra frate li abbiamo davvero schiattati nel culo scusate non è la mia intenzione cioè in realtà si è la mia intenzione che cosa carina bit gli faccio una carezza al miciotto un baciore wow scommetto che oh scommetto che non se l'aspettavano guarda che faccia rimarranno lì per un bel po' immagino sì sono contrario alla violenza ma almeno adesso possiamo passare senza problemi certo professor layton il contrario alla violenza ma appena ucciso due persone grande fra prima di continuare ascolti bene ciò che ho da dirle signor orazio siamo qui per impedire che dimitri completi la sua macchina del tempo vogliamo anche liberare gli scienziati tenuti in ostaggio da dimitri continui penso che se riuscissimo a parlare direttamente con lui potremmo mettere fine a tutto lei sa dove potrebbe trovarsi dimitri se è qui deve trovarsi nella stanza di ricerca principale vi mostrerò dov'è magnifico ma prima vorrei farlo un'altra domanda si è iscritto al canale ha smasciato l'hai per caso e comunque i materiali che sono qui in giro non servono a costruire una macchina del tempo vero e a cosa sta lavorando lei di preciso allora la mia specialità è la fisica polidimensionale e mi occupo della macchina del tempo i materiali che vedete però sono per un altro gruppo di ricerca che lavora qui è anche questo gruppo agli ordini di dimitri chi lo sa si occupano di cose piuttosto pericolose ma dubito che il loro lavoro interessi molto a dimitri ma in che senso ma fammi investigare vabbè proseguiamo però è il tipo con la mia stessa pelata che stava sul ponte fino a qualche minuto fa ciao fra cosa significa tutto questo razio che cazzo sono queste persone questo è il vero professor layton newton il vero professor layton cosa vuoi dire ti spiegherò tutto più tardi ma adesso non abbiamo tempo ti basti sapere che questa gente qui per aiutarci a scappare una volta per tutte tu vuoi tornare al nostro tempo nel passato vero tornare a casa farei di tutto come la possa aiutare professore la prego e faccio anche un boccaciccio se necessario devo trovare dimitri l'uomo che ha usurpato il mio nome avevo letto un nipote e non stavo capendo ho sentito che potrebbe essere nella stanza di ricerca principale lei sa dove si trova ci siete vicini dovete soltanto proseguire lungo questo corridoio per qualche metro non riesco ancora a credere che lei sia il vero professor layton mi può fare un autografo comunque avremo modo di discutere più tardi adesso andate prima che qualcuno vi veda posto i suoi scagnosi sono passati di qui dicendo che c'erano degli intrusi non vi rimane molto tempo ma come l'ho fatto la traccia così in fretta hai dovuto prevederlo probabilmente abbiamo attivato un sensore infrarossi sai non ci conviene stare fermi layton andiamo bello ragazzi eccoci arrivati davanti alla porta d'ingresso della stanza principale porta non serve a niente si direbbe che questa porta conduca la stanza di ricerca principale spero proprio che dimitri sia lì dentro anch'io l'hai sentito prima luke possiamo ancora farlo ragionare e sono certo rifaccio sta parte parto per il video anch'io l'hai sentito prima no luke possiamo ancora farlo ragionare e sono certo beh prima di tutto dobbiamo aprire questa porta ha una strana serratura mettici il cazzo mettici il cazzo mettici il cazzo come non detto niente cazzo da infilare e vabbè allora il segno più in alto a sinistra è nascosto da qualche parte nel liquadro sottostante riesci a trovarlo ha esattamente la stessa forma e grandezza se dicessi no non riesco a trovarlo il gioco finisce qui non riesco nemmeno a capire quanto grande possa essere perché ok è grande così vabbè è good enough right lo accettate non riesco a trovarlo ho detto proviamo a passare qui magari lo accetta non riesco a trovarlo eccolo qua finalmente trovato vai conferma perdonatemi sono un turbo pepe gotto e ci metto più del dovuto a fare questi enigmi qui risolvere un enigma è una soddisfazione te lo dici tu ecco fatto ora la serratura è aperta fermi dove siete allora se permette non mi ero nascosto stavo cercando di entrare nella sala principale della vostra base ma come dici tu chi è che sta parlando mo è claire claire ce la siamo vista brutta laggiù mi batte ancora forte il cuore sai e lei chi è sto cazzo scusate bella parola travegole la usa sempre mia nonna chi cazzo è claire chi cazzo è celeste mo no sono celeste la sorella minore di claire sto cercando di scoprire cosa le è successo ed ecco quindi risolto il mistero della donna che assomigliava incredibilmente tanto a claire in realtà non è claire perché ricordiamocelo è schiattata nel culo pensi sua sorella minore celeste tu sei la sorella minore di claire è incredibile quanto le somigli ci siamo già incontrati più volte non è vero che strano claire non mi aveva mai detto di avere una sorella eh rimpiango ancora di aver passato gli ultimi anni della sua vita lontano da lei sa mi perdoni se non l'ho contattata prima professore volevo farlo ma temevo che avrei attirato l'attenzione della famiglia così ho deciso di aspettare prima di venirla a cercarla e di venirla a cercarla top tier capisco doveva nemmeno amare sua sorella per venire fin qui in cerca della verità sa beh a dire il vero più che indagare per conto mio ho seguito il professore ma perché? per la sua reputazione dicono che il grande professor Layton possa risolvere ogni enigma ho pensato che se c'era qualcuno in grado di scoprire cosa fosse successo quello doveva essere lei celeste il giorno dell'esplosione io oh no stiamo per essere interrotti co-cloccati oh no la famiglia sarà qui a momenti dobbiamo cacciauare via di qui ah è arrivato il mio momento nessuno può sparire in modo teatrale come Don Pablo siamo troppi cretino conviene separarci per andare più in fretta hai perfettamente ragione celeste io mi occuperò di te Layton tu pensa ai ragazzi celeste aspetta ci sono ancora tante cose che voglio chiederti ahà trovati professore questa città nasconde dei segreti che non può neanche immaginare troverete le risposte nelle braccia di un vecchio padre è lì che ci rivedremo un vecchio padre mi fa male il culo aia fermi dove siete intrusi professore siamo nella merda yuk flora dobbiamo darci la gambe ah devo tornare indietro davvero ma che tristezza che lame ah non riesco a crederci ce la siamo cavata tutti e tre senza neanche un graffio non abbassare la guardia luk non siamo ancora al sicuro non riesco a smettere di pensare alle ultime parole di celeste sa troverete le risposte nelle braccia di un vecchio padre è lì che ci rivedremo un vecchio padre non ho idea di chi stia parlando ve lo giuro che io sappia nessuno ha avuto figli in questo universo forse il tamiji perché parlano del tamiji come un vecchio padre un vecchio essere con le sue braccia possibile? ma certo ha parlato in codice per nascondere la nostra destinazione bravo yuk ci sono arrivato prima io comunque sono più fico ma cosa avrà voluto dirci? consideralo come un enigma luk anche se sospetto che la soluzione non indichi solo la nostra prossima destinazione scommetto che ci rivelerà anche dove si trovano il nascondiglio di dimitri e la base della famiglia se lo dici tu se è così diventa ancora più importante decifrare questo enigma luk ti ricordi il volantino di un ristorante chiamato thames arms visto ho visto che c'era arrivato è lì che celeste ci aspetterà al thames arms ma come ha fatto a capirlo? beh luk hai mai sentito parlare del vecchio padre tamiji? ma che smart che è il vostro streamer pelato non ci saranno capelli qua sopra ma qui dentro c'è un cervello semi quasi circa più o meno funzionante dal volta nel folklore e nella letteratura i fiumi sono spesso personificati e il tamiji non fa eccezione infatti i londinesi lo chiamano old father thames ovvero il vecchio padre tamiji più o meno ci siamo quando celeste ha detto che avremmo trovato la risposta nelle braccia di un vecchio padre intende dire alla locanda si riferiva proprio al vecchio padre tamiji oh adesso capisco thames arms vuol dire le braccia del tamiji professore stavo pensando una cosa a cosa ti riferisci Luke? al fatto che non possiamo fare due passi senza che tu mi interrompa porca di quella a come lei Dimitri e Don Pablo siete tutti collegati alla povera Claire in realtà e tutti voi avete dei dubbi sulle circostanze che hanno portato alla sua morte anche celeste perché ho il sentore che molti dei misteri di questo luogo abbiano a che fare con quell'esplosione? sai Luke l'esplosione che ha portato via Claire muoio aiuto l'esplosione che ha portato via Claire non ha distrutto solo il laboratorio dove lavorava quando ho sentito dell'incidente e sono arrivato sul posto c'erano fiamme dappertutto anche alcuni appartamenti vicini al laboratorio erano stati rasi al suolo tutta la zona era devastata mentre guardavo quella scena speravo di aver perso Claire per sempre come speravi e non ero l'unico ad aver perso qualcosa molte altre persone furono ferite o peggio ricordo ancora oggi un bambino in strada che piangeva ai suoi genitori per qualche tempo dopo l'incidente rimasi in uno stato di shock ah sapevo non speravo non so leggere ho fatto il classico mi hanno insegnato a leggere l'alfabeto greco quello latino faccio più fatica ma quando mi ripresi notai qualcosa di strano nonostante la portata di quella tragedia i media non le dedicarono molta attenzione nessun giornale o canale televisivo diffusa alcun tipo di notizia a eccezione del rapporto preliminare sapevo che l'unico modo per scoprire la verità era indagare di persona mi misi subito all'opera per scoprire qualcosa sul laboratorio dei colleghi di Claire nel corso delle indagini scoprì che dei politici potenti avevano messo a tacere tutto lo hanno pure menato no povero Herschel le ferite mi costrissero a restare in ospedale per un mese ero fortunato ad essere ancora viva minchia non me lo ricordavo il turbo pestaggio tornato a casa scoprì che il mio appartamento era stato messo a soquadro gran parte delle informazioni sul caso erano sfortunatamente sparite quell'esplosione non fu un semplice incidente vi era implicato qualcuno di potente molto potente e questa persona abusò dei suoi poteri per insabbiare la verità ho provato più volte a ricominciare le indagini ma senza fortuna ogni volta che facevo progressi ricevevo minacce e intimidazioni non rivedrò mai più Claire di questo sono cosciente ma devo scoprire la verità su quel giorno costi quel che costi sono sicuro che anche Don Pablo e Celeste la pensano così quindi pensa che Dimitri quindi pensa che Dimitri conosca la verità Dimitri e forse anche qualcun altro a chi si rivelesce professore? tutto diventerà chiaro alle braccia del Tamigi ora andiamo mi sa che quel qualcuno è il signor Guglielmo Falchi perché si intravedeva in qualche scena e forse questo è anche il motivo per cui Dimitri ha voluto rapire il primo ministro perché lui sa molto più di quanto si possa pensare Pavel mi sono cagato in mano non lo fare mai più io mi sono perso Sola, t'ha posto? Excuse-moi, amigos non volevo spaventare la giovane Froiline Pavel Pavel, cosa ci fai qua giù? Stavo esplorando questa zona quando a un tratto sono finito di qui perdido stavo esplorando i tunnel come ci hai detto prima prima mentre cercavo i grandi tunnel ho per sbaglio seguito i binari della metropolitana questo piccolo viaje mi ha messo in pericolo ma fa tutto parte dell'esplorazione del mondo non è giusto? beh, suppongo di sì retiro naturellement mi sarei evitato un sacco di guai se la mia bussola non si fosse rotta vabbè, bla 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 oh no enigma di Pavel cazzo ragazzi se questa O fosse stata una S avremmo potuto scrivere sesso e avrei riso tantissimo su ogni quadrato di questa mappa è riportato un punto cardinale tuttavia il lato della mappa rivolto verso l'alto non indica necessariamente il nord assegnando al nord al lato corretto e iniziando da un determinato quadrato puoi passare su tutti i quadrati della mappa muovendoti su ciascuno di essi e su ogni quadrato di questa mappa è riportato un punto cardinale bene tuttavia il lato della mappa rivolto verso l'alto non indica necessariamente il nord ok assegnando il nord al lato corretto e iniziando da un determinato quadrato puoi passare su tutti i quadrati della mappa muovendoti nelle direzioni indicate ok ma in realtà è semplice supponiamo che il nord sia questo se il nord è quello vuol dire che dobbiamo fare est 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 bloccati però possiamo arrivare da nord e qui non funziona più supponiamo che sia questo il nord perciò facciamo non ha senso perché questi est portano tutti fuori facciamo finta che sia questo il nord quindi è est nord est ovest est ovest est è questo il nord nord sud ovest est è forse quel che cerco non è che c'è neanche c'è allora est 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 sud est non sto capendo quindi se il nord è qua partiamo da qui sud non va ovest esce fuori esce fuori va fuori ok no fuori 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 bene quindi non è d non è a abbiamo visto per esclusione vi dico c non è a non è b non è d vai con c credo di essere sulla buona strada solo per esclusione non perché ci fosse arrivato veramente proprio come pensavo questi enigmi con un ds fisico sarebbero infinitamente più semplici perché lo giri un po' come ti pare e guardi il foglio da altre prospettive dovendolo tenere fisso dovendolo tenere fisso faccio casino adesso che siamo di nuovo in superficie possiamo dire di aver similato la famiglia no? eh abbiamo passato momenti concitati laggiù Flora stai bene? non sei troppo spaventata? sto benone professore anche se sono contenta che voi due foste con me professore il Thames Arms è molto più avanti andiamo a incontrare Celeste in effetti vi è potuto fare una foto col telefono vabbè poco importa scusate mi spiegazione di lore perché Flora abbia ancora quella voce lulz capitolo 12 la verità rivelata e oh mio dio Leito in quella giacchetta azzurra non si può vedere là sotto Chelmi Barton come state? beh io vigno non li posso si li posso ignorare non li posso ignorare come non detto ah lei donna qualche non ha visto da seguire forse sì sono felice di vederla e vorrei che venisse con me il Thames Arms il Thames Arms il Thames Arms la perlustrazione del luogo ha rivelato la presenza di aromi favolosi signore Barton vuoi stare cazzo zitto per un secondo per favore cosa avrebbe di tanto speciale il Thames Arms dovrebbe ci precipitare solo meno eh non le prometto niente ma è probabile che ciò che accadrà la condurrà al primo ministro davvero ha stuzzicato il mio interesse però non è stato il problema di questo tornato enigma quale enigma? enigma boss comunque parlo di quello che ho trovato sento che è collegato al mio caso enigma balls non ha neanche senso ricevi una lettera il cui contenuto recita la stanza in questa foto nasconde un segreto rimuovi una delle piastrelle del pavimento per rivelare un tesoro nascosto nella stessa busta della lettera trovi la fotografia qui sotto sul retro c'è scritto segui la freccia e troverai il tesoro così dovrebbe andare sono stato obbitato? eppure sembrava tutto troppo semplice in effetti segui la freccia e troverai il tesoro la freccia non vedo nessuna freccia forse è quella indicata dal muso di questa scimmia quindi lei così dovrebbe andare maledetta scimmia con la faccia da freccia proprio come ho pensato che gran feccia mi spiace dirglielo ispettore ma questa lettera non sembra avere niente a che fare con il suo coso il suo coso voce sbagliata scusate oh perfetto un altro potenziale braccio che ve in fondo non lo sapete per sciperiare davvero qualsiasi cosa vogliamo stare mi sembra all'indelì qualsiasi cosa vogliamo stare nel ristorante sarà sicuramente più utile di questa lettera scusate è che sono due tasti vicini cioè il tasto della voce di celmi e quella della ragazzina sono uno sopra l'altro e quindi ho misclicato oh you grande salve sono contento di ritrovarvi finalmente dove cazzo eri finito fra ho fatto qualche indagine da solo seguendo una donna sospetta che avevo visto in città ho notato che vi stava seguendo così ho deciso che bisognava scoprire chi fosse oh intendi celeste tu ve l'hai vista l'ultima volta a un certo punto l'ho persa di vista ma ora è entrata in questo ristorante pochi secondi dopo ho visto entrare anche un nostro caro amico oh lasciami celeste i protagonisti di questa ricetta che cazzo significa celeste pablo max gazzè che poi non è neanche max gazzè è più nicolò fabio comunque oh sono felice di vedere che state tutti bene non potevo certo farmi catturare prima di sentire qualcosa di più sul mistero di cui parlavi no ho la sensazione che lei abbia già capito molte cose da solo ho ragione oh è vero professore lei tose sa qualcosa spudine l'ospo vedo che tutte le persone coinvolte sono presenti quindi cercherò di essere il più chiaro possibile momento l'ora c'è voluto un po' ma penso di essere finalmente riuscito a dare un senso a tutti questi eventi bizzarri lei ha capito tutto si quasi tutto io non ci ho capito un cazzo bene forza allora spudine il raspo volentieri ho parecchie cose da dire a proposito di questa città e dei suoi molti segreti la Londra in cui ci troviamo questa Londra nel futuro è solo una finzione e io questo e io questo me lo ricordavo ma non ricordo in che modo ci sia arrivato Leighton e in che modo si potesse capire più precisamente si tratta di un set costruito per farci credere di essere dieci anni nel futuro perché in realtà non esiste proprio nessuna macchina del tempo big nope è scamato scamato big luke a credere che il loro rugiaio fosse un portale per il futuro ma ciò che si cela in quel negozio è in qualche modo altrettanto incredibile il negozio non nasconde una macchina del tempo bensì un ascensore che porta sotto terra raga in realtà il futuro in cui siamo stati fino ad ora è una gigantesca londra sotterranea che si trova sotto londra è tipo il new york a new new york in futurama questa stanza è tipo la sala dell'ascensore nell'albero di prezzemolo a gardaland che ti fa pensare ti stanno andando su e giù ma in realtà sei perfettamente fermo sì esatto forse ha sentito parlare di cavità sotterranee alcune delle quali ospiterebbero antiche rovine sì figa comunque qua abbiamo una replica in scala 1 a 1 di londra mi pare un po' troppo grande come caverna secondo alcuni esperti tali cavità o caverne esistono in tutto il mondo nerd delle pietre credo che dimitri abbia usato una di queste caverne per creare la falsa londra in cui ci troviamo è come se ci trovassimo sul più grande set cinematografico mai costruito cosa? faccio fatica a crederci la cosa che stupisce me è la quantità dei soldi necessarie per fare una roba del genere che cazzo l'ha finanziato? allora dietro a tutto questo c'è un dimitri ma perché l'ha fatto? non è stato facile trovare una risposta a questa domanda perché si sarebbe dato tanto da fare per farci credere di essere nel futuro? bella domanda fra non ha senso a meno che proprio su questo non si reggesse tutto il suo piano che tipo di piano richiede un'ambientazione così incredibile? sono confuso quanto vuoi in questo momento e pensare che l'ho già giocato eh io sto titolo semplice sembra che dimitri non abbia mai rinunciato al suo sogno di costruire una macchina del tempo ma anche se ce l'ha messa tutta il compito era troppo arduo per un uomo solo aveva bisogno dell'aiuto di altri scienziati e così ha rapito le menti più geniali di Londra ma per far sì che lavorassero per lui doveva convincerli che si trovassero nel futuro vabbè bastava minacciarli di uccidere la loro famiglia sarebbe stato molto più facile e perché? pensaci yuk dimitri non poteva imprigionare gli scienziati non in senso letterale dopo tutto non sarebbero stati molto motivati in simili circostanze hai ragione anche tu no a dimitri serviva un approccio diverso per costringerli a completare le sue ricerche io continuo a pensare che una pistola costantemente puntata sulla loro famiglia sarebbe stata un buon incentivo comunque era essenziale che gli scienziati si impegnassero quanto dimitri così ha detto loro che erano stati proiettati nel futuro a dieci anni da casa che dovevano lavorare alla macchina del tempo per poter tornare indietro o no dimitri ha ingannato gli scienziati dicendo che la macchina del tempo era un progetto preciso li ha convinti che questa fosse la loro unica speranza per tornare indietro allora così ci sta l'accetto allora è per questo che prendevano ordini da dimitri questo è quanto sono riuscito a scoprire forse il nostro amico qui può raccontarci il resto non è vero Luke grande? alla fine ci sei arrivato ottimo lavoro Erschel ma come sempre ma questo ristorante è un nascondiglio della famiglia what perciò mi era perso strano che il barista non avesse battuto ciglio quando siamo entrati beh complimenti non avrei mai detto che avresti scoperto così tanto ma che plot twist non me lo ricordavo dimitri sotto il vestito da cantante italiano dei primi anni 2000 immagino che non mi resti altra scelta devo chiudervi la bocca una volta per tutte dimitri allel ci stavi spianto senza l'inizio voglio lanciare una sfida al professore oddio non ricordo se gli avessi dato una voce a dimitri gliel'avevo data si o no al se no gliene improvviso una al volo adesso no non gliel'avevo data va bene allora ok scusate voglio lanciare una sfida al professore non ho intenzione di perdere tempo parlando con dei poliziotti pasticcioni sa ma pasticcioni te la faccio vedere io brutto gaglioffo vi consiglio di rimanere dove siete in questo ristorante ci sono abbastanza esplosivi da far saltare in aria tutto quanto e sono increscati ma sei rincogliorito moriremo tutti anche tu io nah io me ne andrò su esattamente quanto tempo rimane e come uscire oh e se avete intenzione di scappare state attenti a dove mettete i piedi basta un passo falso e questo posto è come un campo minato esattamente boccia di merda ora mi godrò le vostre facce terrorizzate ancora per un po' ah molto bene dopo di che vi abbandonerò al vostro destino si direbbe che sei riuscito a battermi dimitri ormai siamo in trappola non proprio professore questo pezzo di carta contiene le informazioni che vi servono indica dove si trovano le bombe va bene allora diamo un'occhiata trova tutte le bombe i numeri sopra e a sinistra della mappa indicano il numero di bombe in ogni colonna e ogni riga si questi quadrati non contengono bombe ah no i punti rossi indicano le persone e quelli grigi i tavoli i quadrati non contengono bombe trova le U ok va bene in realtà è abbastanza semplice devo indicare dove stanno le bombe sapendo però che queste si trovano in punti dove non ci sono né tavoli né persone in questa riga orizzontale ci sono quattro bombe quindi una due tre quattro così come qua una due tre quattro bene poi qui in verticale ce ne stanno tre perciò qui in verticale ce ne stanno due bene qua due qua due qua due e siccome qua ne servono tre e sopra soltanto due teoricamente qui ce n'è una e qui ce n'è una ma l'hai fatto simmetrico ma che tristezza fra oh ben fatto professore forse avrei dovuto rendere tutte quante le cose un po' più difficili no a quanto pare non salterete in aria sembrerebbe così a meno che lui non ci abbia nascosto qualcosa come? luke prova a immaginare che questo pezzo di carta indichi quanto tempo ci rimane oh oh doppio zero farina zero secondi professore la fine le bombe stanno per esplodere oppure è un otto rovesciato a caurinfinito non così in fretta luke no aspetta boccia di merda calmati qui non c'è scritto doppio zero non è una farina questo simbolo rappresenta l'infinito le bombe non stanno per esplodere anzi azzarderei dire che le bombe nemmeno esistono è così dimitri non è vero sarai anche malvagio ma non sei un assassino volevi solo distrarci per favorire la tua fuga avrei dovuto prevedere che non ci saresti cascato troppo intelligente va finora ho usato il mio intuito ma adesso ho bisogno che tu mi dica il resto devi avere avuto un qualche motivo per escogitare un piano così contorto nah for fun io io avevo un ottimo motivo tutto è iniziato circa dieci anni fa Bill Hawks e io eravamo amici e colleghi lavoravamo nello stesso laboratorio conducendo ricerche sui viaggi nel tempo quelle ricerche erano tutto per noi ogni giorno ci impegnavamo al massimo per scoprire i segreti del tempo e dello spazio dopo mesi di progressi avevamo costruito un prototipo della macchina dico era finalmente arrivato il momento di fare un esperimento su un soggetto umano che però è schioppato male Bill voleva usare Claire come prima cavia era la nostra assistente di laboratorio ah ecco perché è schioppata male io naturalmente mi opposi con forza sapete anche io l'amavo e anche se non ricambiava i miei sentimenti non volevo rischiare che si ferisse nell'esperimento allora spezzando una lancia a favore di Bill Hawks non si è ferita in realtà Claire quindi teoricamente è andato tutto liscio no? nel frattempo avevo notato che c'era un errore nel progetto della macchina pregai Bill di aspettare ma non volle rimandare l'esperimento qualche tempo dopo l'incidente feci una sorprendente scoperta senza consultarmi Bill aveva stretto un accordo per vendere la tecnologia della macchina male detto infingardo bastardo una multinazionale gli aveva offerto una montagna di denaro Bill sapeva che la macchina non era pronta per un collaudo ma doveva dimostrare che funzionasse ormai conosciamo tutti le tragiche conseguenze della sua decisione già quando capii che Bill voleva procedere con l'esperimento era troppo tardi per fermarlo allora di come avanti a sopravvivere Claire esplosa perché era dentro il macchinario bene ma Bill ma Guglielmo cosa ha fatto cosa ha fatto cosa ha fatto cosa ha fatto che lacrima strappastoria povera Claire mi stupisce mi stupisce il fatto che sei ancora tutta intera e non ridotta a brandelli con materia cerebrale sparsa sui mondi e schizzi salvo e mi fumo alla luce del sole a causa della smisurata ambizione di Bill persi Claire per sempre ah tu ok la vita è piena di sorprese crudeli in un colpo solo avevo perso la donna che amavo e tutto il mio lavoro ero un uomo distrutto Bill invece si riprese completamente dalle sue ferite concluse anche l'accordo con la multinazionale intascando una bella somma scusa ma cioè il signor Bill come cazzo ha fatto a vendere una macchina che non funzionava con quali skill ma altro che i guru della finanza impariamo da Guglielmo Falchi usò questa fortuna per darsi alla politica fino a raggiungerne il gradino più alto dopo aver ucciso Claire la sorte lo ricompensò con la poltrona più importante del governo ditemi voi se non vi sembra uno scherzo di pessimo gusto non è uno scherzo è la realtà di tutti i giorni anche per noi caro Dimitri non posso negare che fu proprio l'amarezza che provavo a spingermi a riprendere le mie ricerche pensavo che tornando indietro nel tempo avrei potuto togliere a Bill tutto ciò che aveva ottenuto ma ovviamente avevo anche un altro motivo chiamare Claire ero determinato a salvare Claire dal suo destino bene o male sicuramente tu mi capisci Archela Claire non è più tra noi e nessuno potrà mai farla tornare indietro lo credi davvero mi spiace ammetterlo ma è così che la penso ho un'ultima domanda per te hai lasciato like sei iscritto al canale che altro vuoi sapere qualcuno ti ha usato come una pedina non te ne sei ancora accorto questo è vero c'è qualcuno di ancora più in alto un burattinaio di un burattinaio un super burattinaio che abbreviato diventa sburattinaio di cosa stai parlando qui qualcuno ha escogitato un piano più terribile del tuo ancora più terribile Dimitri è quella persona è lui credo proprio che si sbagli professore sono certo di non sbagliarmi ed è inutile fingere oltre Luke o dovrei chiamarti Clyde come cazzo l'hai scoperto tu Hercel ci ho messo un po' di tempo a decifrare il tuo piano ma quando ho finalmente messo insieme tutti i pezzi la sua malvagità mi ha dato i brividi di cosa sta parlando Clive allora hai tenuto le tue vere intenzioni nascoste a tutti Clive persino a Dimitri il tuo complice con quale effetto sonoro mi ha spezzato quel ma chi cazzo è Clive appunto Clive tu abitavi nel palazzo di fianco al laboratorio che è esploso dieci anni fa eri solo un bambino gli sono schioppati i genitori è lui il bimbo l'esplosione distrusse metà del palazzo fonti dell'epoca indicano che lo scoppio causò dieci vittime tra cui anche i tuoi genitori make sense deve essere stato uno shock fortissimo in pochi istanti hai perso la tua casa e la tua famiglia ma poco alla volta lo shock iniziale si è trasformato in rabbia eri ossessionato dall'idea di vendicarti di chi ti aveva tolto tutto cioè Guglielmo la fortuna volle che venissi adottato da una generosa signora in età avanzata Constance Dove il buon cuore della signora Dove era eguagliato solo dal suo enorme patrimonio che culo voi due avete vissuto felicemente come una famiglia per alcuni anni purtroppo non durò a lungo la signora Dove passò a miglior vita cinque anni dopo lasciandoti la sua fortuna meh 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 la sugar mom bravo Glyve qualche tempo più tardi ti diplomasti e iniziasti a lavorare part time per un famoso giornale ma se sei così ricco che cazzo la voglia fare Efra ma coditela cillatela considerando il tuo patrimonio dubito che quel lavoro ti servisse per mantenerti è giusto cretino cercavi qualcosa usando le risorse del giornale scopristi finalmente chi era la causa della tua infelicità sapevi che Bill Hawkes e Dimitri Allen erano entrambi responsabili dell'esplosione io non credo che Dimitri possa essere ritenuto responsabile eh però perché cioè se lui ha cercato di fermare il tutto e Guglielmo ha fatto accordi ed esperimenti alla sua insaputa alle sue spalle che cazzo di colpa ne ha Dimitri grazie a queste informazioni elaborasti un piano per vendicarti di chi aveva ucciso i tuoi genitori trovasti Dimitri e una volta diventati amici lo convincessi a riprendere le sue ricerche poi attingendo all'eredità della signora Dove costruisti questa falsa londra eccoli i cazzo di fondi minchia era ricca però era signora Colomba una volta approntato il tuo set hai usato i contatti al giornale per trovare gli scienziati d'altra parte ti serveva qualcuno per aiutarti a completare la macchina del tempo e infine le hai attirati nella tua trappola tuttavia all'insaputa di Dimitri gran parte degli scienziati non stava lavorando alla macchina pensi? cosa? in segreto Clive aveva riassegnato molti di loro a un altro progetto un progetto che gli stava molto a cuore oh appunto sono già le 10 e 20 muoviamoci un'arma concepita per causare una catastrofe senza precedenti nella storia ah tipo quella di Cromleburgo POG un'arma sta dicendo la verità a Clive io che pensavo che gli scienziati fossero persone attente mentre tutti dedicavi alla macchina io avevo obiettivi diversi voi potete chiamarla vendetta ma io preferisco definirla giustizia nei confronti di scienziati senza scrupoli e politici corrotti di cosa parli Clive basta con le spiegazioni guardate con i vostri occhi ma povera Flora sempre in mezzo a ste situazioni finisce povera poraccia prendilo in testa in testa si bravo Clive miglior personaggio della serie guarda puoi uccidere tutti ora ti do il permesso oh cazzo l'arma è il faro è letteralmente la rosa di Cromleburgo professore cosa facciamo ora ha preso Flora in ostaggio e Layton guardali dove Layton gira lo sguardo e c'è un'altra persona che li fa tondino ah no beh sarebbe stato più figo se qualcuno ne avesse fatto col dire invece è un gigantesco volem oh bella madonna e vabbè poi assedamente ma la signora Colomba ma quanti cazzo di soldi aveva ma tu sei tutto turbo scemo fattelo dire minchia si che poi se ci pensate in questo momento siamo in un set sotto terra e quella cosa gigantesca enorme lì era sotto terra nel sottosuolo cioè questa roba arriva al centro della terra professore cos'è quella roba sembra che Clive stesse lavorando con qualche tipo di fortezza mobile Flora è intrappolata lassù dobbiamo salvarla ma lo faremo nel prossimo capitolo capitolo 13 la fortezza della follia Per tutto questo tempo Clive ha perfetto la macchina di guerra sotto Londra, assurdo! In realtà l'ha costruita sotto sotto Londra Quindi è questa l'arma che Clive stava costruendo Un aerea in corrente? No, anche se sospettavo che qualcuno stesse usando Dimitri per costruire delle armi Tuttavia non avrei mai immaginato che il prodotto di queste... Esatto Don Pablo, abbiamo bisogno di... È il momento dell'alleanza proibita Dobbiamo farci ritare da Don Pablo per volare fino in cima alla torre Alla stanza più remota della torre più alta Esatto, è York che è sotto nuovo a York che è sotto nuovo a New York È arrivato il momento del tuo spettacolo, eh, Leighton? Puoi andare a salvare Flora, giusto? Naturalmente, ma come stracazzo faccio a entrare nella fortezza? Potremmo provare a scalare una delle sue gambe Ma che cazzo dici, ragazzino? Vi spiaccicherebbe come frittelle Ehi, Leighton, perché erano usi l'auto per raggiungere la fortezza? Intendi quella all'ospedale? Pensavo fosse solo un falso per farci chiedere di essere nel futuro Eh, ne ho costruita un'altra dotata di tutti gli optional La tenevo da parte per un'occasione speciale, ma... Fa niente Mi sta aspettando in cima a quella collina laggiù Sbrigati! Grazie mille, Paolo Mi spanni e mi ne sdolge notezze, Leighton Lo faccio solo per Flora Così poi la rapisco di nuovo La collina laggiù... Quindi... Don Pablo non stava mica scherzando Questa macchina è letteralmente identica alla Leighton Mobile Eh, ho una confessione da fare, Leighton Ed è così imbarazzante Che c'è, Paolo? Non vedi che siamo in una situazione un po' incasinata? La verità è che la macchina è quasi pronta Ma non so che vite usare in quest'ultimo ingranaggio Ma porca di quella... Pablo, mo te ne rendi conto? Figa, stringi le tutte! Ciao Manu, tutto bene? Grazie Solo una delle viti qui sotto Tra A, B, C, D, E ed F Entra perfettamente nel foro filettato La grandezza del foro è uguale allo spessore di tutte le viti Quindi non preoccuparti di questo L'unico attrezzo di cui disponi è un cacciavite piatto Ora, fai in fretta perché non hai molto tempo Allora... Cacciavite piatto, no? Quindi non è questa e non è questa È A, C, D, O, E Ora, devo capire quali di queste Ha La parte filettata orientata nel modo giusto Ma non saprei dirvelo Beh, allora Considerate il fatto che è così spiraloso Direi di escludere C Sarebbe troppo piatto Così come escluderei E Ed A Perché forse sono filettate nel modo sbagliato D Credo Allora Il cacciavite è piatto Quindi non può essere B Non può essere F Non può essere neanche C Perché è filettato piatto E quindi non girerebbe lì dentro Così come Non è E Perché mi sembra filettato Troppo Troppo fitto E contando la direzione in cui Devono girare adesso Qui le cose all'interno del vortice Forse premerei su D O è A o è D D mi sembra quella giusta Seconda proprio dell'orientamento Vediamo se ho ragione Sono un cazzo di genio Bene, risolto Questa è quella giusta Ne sono sicuro Certo che anche Pablo Provarle tutte Cioè ce l'aveva messo tre secondi Per chiodo Beh vite Questa volta Devo proprio ammetterlo Nathan Hai fatto un ottimo lavoro Ora l'auto è pronta a partire Ci puoi scommettere ragazzo Signori La vostra carrozza vi attende Ah yes Vengo con voi No Celeste Ora ce ne occupiamo noi Il tempo stringe Va a tavoletta Mi raccomando Fidatevi di me Mi piace come in tutto questo Nessuno si sia fatto problemi Per la presenza di Luke in quella macchina Un bambino di otto anni Complimenti ragazze Eh vabbè Certo Tutto perfettamente sensato Quanto È impossibile Ok la sospensione Dell'incredulità Ma questa non ha nemmeno senso E ora siamo in un tunnel Tutto meraviglioso Ma per quale motivo Che hanno una strada Di questo genere Sopra il robotone La nostra priorità È scoprire dove Clive Ha portato Flora D'accordo professore Ma questo posto è enorme Potrebbero essere ovunque Ora ho una domanda importante Ma se non avessi risposto Abbastanza enigmi E ci fosse una sorta Di lock Accento Come facciamo Dobbiamo tornare giù E ritornare su Cioè mi sembra Un po' uno spreco di tempo Beh innanzitutto Troviamo il modo Di entrare Questa porta è bloccata Da un enigma C'era da aspettarsi Da Clive Blablabla Ok Mamma mia Tutti questi enigmi Per entrare nelle porte Che palle La porta qui sotto È chiusa Da una misteriosa serratura Composta da sei quadranti Che ruotano E possono essere Anche scambiati Tra di loro Per aprire la porta In Per aprire la porta Sistema i quadranti In modo tale Che le gemme Tra loro adiacenti Siano dello stesso colore In orizzontale Come in verticale Per aprire la porta Sistema i quadranti In modo che le gemme Tra loro adiacenti Siano dello stesso colore In orizzontale Come in verticale Ah ok Va bene Tipo Non qua Allora Patapim patapam Patapum patapim 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 Qua è giusto Qua no Peccato Direi che ci siamo No Rosso rosso Blu blu Verde verde Giallo giallo Blu blu Verde verde Rosso rosso Blu blu Giallo giallo Rosso rosso Blu blu Verde verde Easy Credo di essere Sulla buona strada Altro che Ottima strada Risolvere un enigma È una soddisfazione Ah yes Adesso dovermo risalire tutto Risolvendo un enigma Per ogni piano Dai Amo veloci Questo sembra essere Una specie di ascensore Lo useremo per muoverci All'interno della fortezza Ma ci sono troppi pulsanti Che non saprei neanche da dove cominciare Ehi voi due Allontanatevi dal trasporto Tutto Che cazzo è mo Eh Oh no Oh no professore Ci hanno scoperti Siamo venuti per la ragazza Rappita da Clive Ci dica subito Dove si trova Flora Flora Ah Intendi quella bambola Che il cavo Ha trascinato qui Il capo Allora Lei ha sempre lavorato Per Clive Beh certo Dimitri non è l'altro Che un volatino È da Clive Che prendiamo gli ordini Ah Ora si spiega tutto Abbiamo buttato La vostra amichetta Nella camera di ventilazione Tanto Non la raggiungerete mai Io non ne sarei così sicuro Sai Chi ci può impedire Di usare questo trasportatutto Per arrivare alla camera di ventilazione Lei è stato anche così gentile De lasciarci una spiegazione Su come usare il dispositivo Coglioncello Non è vero Oh Parli di quella nota Beh la cosa non mi tange È scritta in un codice Indecifrabile Prova finché vuoi Tanto non capirai mai Le istruzioni Vai 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 Per aprire la porta Devi premere I pulsanti numerici In base a queste Nebulose istruzioni Apri con 2 Ma lascia stare 4 E Premere solo il pulsante Con il numero 2 E non premere Quello con il 4 Non funziona Quindi come farai Ad aprire la porta Apri con 2 Ma lascia stare 4 Beh Cioè Ha senso Vediamo se ho ragione Che cosa fottutamente ridico Bene Risolto Ah lascia stare 4 Vuol dire che non ne dovevo toccare 4 Ah vabbè Non c'ero arrivato Però va bene Ha funzionato Ecco fatto Sono certo Che la porta si aprirà Da un momento all'altro Cosa? Ehi Fermi Non sei autorizzato In perdere dentro E come pensi Di impedircelo eh Sei solo un mezzo busto parlante Forza Cerchiamo Flora Vediamo Sembra che la camera di ventilazione Si trovi al dodicesimo piano Non attardatevi a entrare O ve lo farò rimpiangere ammalamente E come? Cosa ci farai? Ci urlerai contro? Bene Questa è una mappa Dell'intera struttura Oh guardi Ecco la camera di ventilazione A quanto pare Possiamo prendere Si vabbè A quanto pare Possiamo raggiungere Semplicemente Premendo un pulsante Andiamo Ma quale pulsante? Ah Fico Penso che questa Sia la stanza Che stiamo cercando Flora Flora deve essere dietro a questa porta Mi auguro che stia bene Flora Oh Grazie al cielo Siete qui? Tieni duro ancora Per un po' Flora Ti tireremo fuori Vedi lì E lo faremo Ovviamente Con un enigma Pipo Poggers Parti da un pulsante E segui le frecce Una dopo l'altra Fino a trovare Quella che ti farà Accendere tutte le altre Presenti sul pannello Ok Ok Sous No No Sì. Parti da un pulsante e segui le frecce una dopo l'altra. Forse ho sbagliato giro. Ok. Parti da un pulsante e segui le frecce una dopo l'altra fino a trovare quella che ti farà aprire ok. Non ho capito se devo indicare la freccia da cui parto o la freccia a cui arrivo. Parti da un pulsante e segui le frecce una dopo l'altra fino a trovare quella che ti farà accedere a tutte le altre presenti sul panello. Sul panello? Quella da cui parto? Allora ok. Credo di essere sulla buona strada. Bene, Flora, sto aprendo la cella. Sono così felice di vedervi. Va tutto bene, cara. Ora sei al sicuro. Ma sarà meglio non restare qui. Diamoci la gambe oppure cerchiamo di fermare Clive. Mi pare giusto, no? Non se ne parla. Sono il suo apprendista. Non lascerò che si getti nel pericolo senza di me. Doanni torna alla macchina, non dovresti neanche essere qui. Allora vengo anch'io. Non. E io non posso lasciarla andare da su. Io caraggio. Vedo che non c'è modo di dissuadervi. Venite allora se proprio dovete, ma fate attenzione. Bravo che hai messo l'accento giusto su dissuadervi. Andiamo a cercare Clive. Proprio così. Ma il tempo stringe, perciò sbrighiamoci. Veloci, alla stanza di Clive. Piripiripiri. Questo sarebbe un ottimo momento per pagliare. Stai arrivando qualcuno. Nascondetevi da qualche parte. Ma non c'è nessun posto dove nascondersi. Presto, al riparo dietro quel macchinario laggiù. Fantastico, se n'è andata. Come tonno. Eeeh, forse perché hai avuto la millante idea di dire a Layton dove trovarla, testa di cazzo. La vuoi piantare? Sì, ho fatto un pasticcio, ma continuare a ripetere non serve a niente. Come vuoi, però ora mi tocca andare nella sala a comando e dire a Clive che abbiamo perso la ragazza. Va bene, allora mentre tu vai da lui, io cerco Layton e gli altri. E così. Ok. Clive si trova nella sala a comando e penso che sia meglio concentrarsi su come raggiungere quel dannato posto. Non ho visto cosa abbia fatto, frega un cazzo. No, la va bene. Sei la migliore. Ahà, sapevo che mi avrei scopati. Oh no, ci ha trovato di nuovo. Calma Luke, non può certo fare molto dietro quel monitor. Ora stiamo alla sala di comando. Andiamo. Ma non lo sai che hai bisogno del codice segreto per accedere a quella sala, sai, zuccone? Senza codice segreto non riuscirai mai ad accedere alla sala di comando dove si trova Clive. Bene, allora dovremo semplicemente decifrare il codice segreto. Grazie del consiglio. Che turbo sceno... sceno? Che coglione, Mandy Bola. Mandy Bola. Nome fighissimo, tra l'altro, eh? Grazie a tutti Molto bene per ora Anche se non ha molto senso Messo di così Ma lasciamocelo per il momento Ok Grazie a tutti Sembra avere senso Così No invece col cazzo Ok c'è un 27 No Non abbiamo Molto senso ma è l'unico che ci si incastra In questo punto Almost there I don't know if that makes sense But regardless Huh Ah Alleluia Ok Ok Ora dovremo riuscire a ricomporre un po' meglio i pezzi mancanti Giusto? Perché questo va qui E questo per concludere Qua giù Mamma mia che fatica 081127 081127 Credo di essere sulla buona strada Mamma mia quanto tempo che ci metto a fare E questo cazzo di puzzle a incastro E grazie Darklight per il quarto Un bacione Tutto bene Un po' cotto ma sto bene Thank you Policione inciappata Bene Penso che il problema si è risolto Accidenti Clive prenderà caccia in culo Ma se Clive ti fa così paura Perché non abbandoni semplicemente la nave? Aspetta Cos'hai detto? Ho detto che tanto vale che scappi Se sei già che verrai comunque punito No? Beh È un'idea così folle Che potrebbe funzionare Sì Me ne vato A presto Belli Non riesco a credere che sia così coglione da berla davvero una roba del genere Che stupido Oh no Il signor tonno Affrontiamolo Sono un po' uomini Un po' squali Pesce Cani Però non sono tutti uguali Gli striccia Oddio tu hai detto che vuoi coltellarmi fra Tranquilli tranquilli Non agitatevi per il coltello L'unica cosa con cui vi colpirò oggi È un enigma Oh 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 Occhi di gatto Oh 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 Occhi di gatto Posizione le pietre dette occhi di gatto negli incastri qui sotto L'unica regola da rispettare è che non ci devono essere quattro pietre a formare un quadrato, un rettangolo, un orizzontale o in verticale Tocca l'icona nell'angolo in alto What? Ok Eh Posizione le pietre dette occhi di gatto negli incastri qui sotto L'unica regola da rispettare è che non ci devono essere quattro pietre a formare un quadrato o un rettangolo, in orizzontale o in verticale Tocca l'icona nell'angolo in alto a sinistra per vedere degli esempi di riferimento su come posizionare le pietre Ci sono 16 spazi vuoti, qual è il numero massimo di pietre che posso mettere? Ok E di questo sono tranquillo E di questo sono tranquillo Allora Qua non abbiamo un quadrato, qua non c'è, qua non c'è, ok Tu non hai quadrati Posso metterti lì Lì non rompo il cazzo a nessuno E anche qua Secondo me questa è la cosa giusta come risposta Perché non posso fare quadrati da quattro in nessun segmento, no? No Da tre non possono essere fatti perché manca sempre un angolo E da quattro... Secondo me è giusto così Perché così già andrei a formare dei quadrati Ah così anche li creo però, guarda qua Secondo me è giusto Ma non c'è garante Non c'è anche se attraire Allora Quando mi è giusto Allora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiaramente, safe. Qua ne creo uno. Qua anche. Tipo, allora, qua formerei il quadrato lì. Qui andrei a formare un quadrato qua. Qui andrei a formare un rettangolo qui. Qui andrei a formare il quadrato. Così no. Piano. A posto. Ah, qua no, lo porto lì. I rettangoli di formo in quel modo. Allora. Se lo metto qui, il quadrato viene creato in quel punto. Se lo metto qua, viene creato in questo punto. Se lo metto qui, viene creato qua. Se lo metto qui, si accrea qui. Se lo metto qua, si crea qua. Se lo metto qua, si crea... Da nessuna parte. Non è vero, si crea lì. Se lo metto qua, si crea... Così. Secondo me è così che si fa. Ah. Un, due, tre, sei, sette, otto, nove. Credo di essere sulla buona strada. Ci ho messo un attimino, ma ci sono arrivato. Oh, ero convinto che quell'enigma l'avrebbe fatto a pezzi, ma mi sbagliavo. Mio Dio, non è andato molto distante, sa? Possiamo passare adesso? Oh, sì, ma solo perché Clive mi ha ordinato di non torcerci un capello. Altrimenti ora vi starei mostrando il pezzo forte della mia collezione di coltelli, se capite cosa intendo. Quello per spalmare il burro. Cosa avrei in mente di fare, Clive, con questo macchinario? Non lo so e non so neanche se mi interessa. Cioè, in realtà... Vabbè, vaffanculo, questo... Eccoci qua nella sala di comando. Salve, Clive. Siamo giunti alla resa dei conti. È molto gentile da parte sua raggiungermi qui, professore. È poco carbato da parte tua rapire Flora e scappare. Qualsiasi cosa tu stia tramando, fermati. Non portarla a termine. Sappiamo cosa hanno fatto Bill e Dimitri. Quando anche il mondo lo saprà, saranno puniti. Ma Dimitri che c'entra? Così sarà fatta giustizia. Non è quello che volevi? Le sue sono belle parole, ma senza un vero terremoto. Quegli stupidi al governo non impareranno mai la lezione. Ma allora attacca la Londra in superficie, non quella sotterranea. Ma ascoltati, Clive. Tu, chi è lei per discutere con me? Come giornalista ho assistito con i miei occhi a infinite tragedie. Ed è chiaro che non sono l'unico la cui vita è stata distrutta in nome del progresso. Per i potenti, noi, povera gente, non siamo altro che un ostacolo verso un futuro migliore. A volte i problemi possono essere risolti solo con la forza. Mi permetta di risentire. Quindi non ho altra scelta se non radere al suolo questo mondo e costruirne uno nuovo. Ciò che dici non ha alcun senso. Ma infatti tu saresti stato perfetto come compagno di Cyrus o di Elisio in Pokémon. La conversazione è finita. No, Clive! Che cazzo è successo? Cosa ha fatto soltanto in aria, Alphra? Mi dica, professore, come pensa di cavarsela questa volta? Ah, eh, così, vabbè. Il pavimento qui sotto è composto da 24 mattonelle ed è progettato in modo tale che le mattonelle cadano una dopo l'altra. Una volta caduta la prima mattonella, quelle adiacenti, non in diagonale, cadranno una ad una in quest'ordine. Cuori, picche, cuori, fiori. La prima però può anche non essere di cuori, ok. Si riesce a individuare qual è l'ultima mattonella progettata per cadere può impedire che il pavimento si sgretoli. Allora. Facciamo finta di partire da questo quadro. Ok. Quindi è quadri, fiori, cuori, picche. Quadri, fiori, cuori, picche. Quadri, fiori, cuori, picche. Quadri, fiori, cuori, picche. Attualmente questa sembra essere l'ultima. Vediamo se da... Mi dà un ordine diverso, quindi... Quadri, picche, cuori, fiori. No. Partiamo da... Boh, questa che è facile. Partiamo dal primo cuore che si vede. Ma in realtà credo che questa possa essere risolta molto più facilmente. Però partiamo dal primo cuore che si vede. Quindi... Cuori, picche, quadri, fiori. Cuori, picche, quadri, fiori. Cuori, picche, quadri, fiori. Cuori, picche, quadri, fiori. Cuori, picche. No, è come piove quando fuori, in realtà. Fiori, cuori. E quattro blocchi. Cuori, fiori. Aspetta, eh. Cuori, fiori, quadri, picche. Cuori, fiori, quadri, picche. Cuori, fiori, quadri, picche. Picche, quadri, fiori. Picche, quadri. fiori cuori non la sto capire vi giuro sono in crisi picche quadri fiori cuori 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 Picche, quadri, fiori, cuori È lei Così dovrebbe andare Ce l'ho fatta finalmente A ricostruire la cazzo di serpentina Beh, non finisce mai di stupirmi Purtroppo ora devo lasciarla Lo spettacolo sta per cominciare Ma alla buon'ora Sono già le 11, speravo di finire Ritorno alle 9 e mezza Stasera, veda lei Cosa intendi? No, Friar Lui sta letteralmente attaccandolo Regà, questo è un pazzo Io scherzavo prima quando Dicevo di attaccare direttamente Londra Ma questo sta per scritturare Le fondamenta della città Questo è uno psicopatico Questo è completamente fuori di me Ma che cazzo sta combinando? Brother Signora, chiuda Fra Non credo che la polizia possa fare molto In realtà Quindi chiamarla non serve a niente Questo è completamente fuori di Melongia Ma sta bombardando civili a casa Ma che cazzo E adesso che cosa facciamo? Niente, Fra Ma questa è una totale follia A meno che A meno che Questa non sia Un'altra finta Londra Sopra alla finta Londra In cui ci troviamo Ma sotto la vera Londra Godetevi la vostra amata Londra Perché questa sarà l'ultima volta Venite con me So come fermare Clive Colpo di pistola alla tempia? Così Qui da qualche parte ci deve essere un generatore Dobbiamo solo trovarlo e disattivarlo Ma certo Taglieremo la corrente alla fonte Geniale Così crolla su tutta la città E fai ancora più morti Geniale Luke Però un attimo Questo posto è enorme Non abbiamo tempo di perlustrarlo tutto Cosa facciamo? Guarda Luke I monitor in questa sala di comando Sono collegati a tutte le telecamere della fortezza Che botta di culo eh Conveniente per il plot Potrebbero aiutarci a capire dove si trova la stanza del generatore Questa è una mappa del piano che ospita la stanza del generatore La posizione di partenza dei due droni di sorveglianza dotati di telecamera È indicata dalle frecce rossa e verde Clive si è assicurato che i percorsi seguiti da questi droni Non passassero dalla stanza del generatore Per impedire al professor Layton di localizzarla Se i droni girano sempre in corrispondenza degli angoli gialli arrotondati Tocca la stanza che evitano aver trovato il generatore Ok Ah no Questa fa su Boing 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 E bo boing Mentre questa fa Mentre questa fa Boing 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 Ah Ups Ok L'unica stanza che non viene toccata da niente Lei Proviamo così Dai era semplice questo grazie Infatti erano solo 50 pecarati Ahà Eccola qui Bravo Yook Ora dobbiamo solo inserire queste coordinate nel trasporta tutto Andiamo Cacciaoiamo fuori di qui Andiamo all'ascensore Possiamo entrati senza che nessuno rompa il cazzo Vero? Che vuoi Celeste? Cioè in realtà è il Yook che rompa il cazzo Celeste Poverina lei Ma tu come stracazza hai fatto a raggiungere la fortezza? Io e il professore abbiamo dovuto fare dei numeri da circo per arrivarci Inoltre adesso la fortezza è in movimento Com'è possibile che tu sia anche qui? Com'è possibile che anche tu sia qui? Non sapevi Yook? Sono una strega Sono saltato sulla mia scopa E sono volata sul ponte Poche cazzate dai Sono curioso D'accordo Se ti interessa tanto posso svelarti questo piccolo segreto Esci da quella porta che conduce al ponte Che cazzo vuoi fra? E il macchinario che avevo... No Che cazzo è? Don Pablo E si è l'apparecchio di Don Pablo che ha usato nel primo gioco Bellissimo Ora che abbiamo l'apparecchio volante di Don Pablo possiamo andare e venire da qui quando vogliamo Esatto Yook Stai pensando di abbandonare la nostra missione? Sì mi sto cagando addosso Praticamente ti dà modo di tornare indietro e risolvere eventuali enigmi che hai lasciato per strada Se vuoi farlo o recuperare alcuni pezzi che ti sei perso indietro Ma non è il nostro caso Direi di entrare nell'ascensore e volare direttamente in direzione stanza del generatore Inserisci quelle coordinate Yook Così dovremo riuscire ad arrivare alla stanza del generatore Guardi professore Il pulsante della stanza si è acceso Così questo è il cuore della fortezza Ecco il pannello di controllo del generatore ma... È bloccato cazzo È un enigma che lo blocca Vuoi provare a risolverlo professore? Farò del mio meglio O del mio peggio Perché io faccio cagare Dieci mosse ti prego No Perché mi vuoi odiare? Cazzo Cazzo Hmm Cazzo Cazzo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio provare ad arrivarci da solo se riesco. Dammi un aiuto. Grazie a tutti. Sposta il secondo blocco dall'alto verso sinistra e sposta A in basso, alla destra del terzo blocco. Poi sposta il secondo blocco dall'alto verso sinistra e sposta... ok. Poi sposta il secondo blocco tutto a destra e il terzo blocco in alto e a sinistra. Bene, io a questo c'era arrivato. Vaffanculo, mi mancavano letteralmente tre passaggi. Che fastidio che non l'avevo vista sta roba, vabbè. Risolvere un enigma è una soddisfazione. Penso di esserci riuscito, state indietro! Oh cielo! Il generatore è Guglielmino! Sapevo che sarebbe arrivato fin qui, prima o poi. Merdone! Se però spera di liberare il nostro impavido leader, temo che sia un po' indisposto al momento. So che le piace recitare la parte dell'eroe, ma le consiglio di non farsi venire idee strane. Vede, il primo ministro è seduto su una sedia molto speciale. Se tenta di muoverlo da quella capsula, l'intera fortezza salterà in aria. Fai la mossa all'Indiana Jones, cioè togli lui e mettici sopra Luke. Secondo me funziona. E sarà meglio che sappia che qui dentro c'è esplosivo a sufficienza per radere al suolo mezza Londra. Avrei detto anche di più. È un ologramma, per quello è bello. Naturalmente, Londra verrà distrutta in ogni caso. Ora, se vuole scusarmi, ho del lavoro che mi aspetta. Guardate questo dispositivo. Sembra che stiamo ritorando il battito del cuore del primo ministro. Se il suono scompare, si innescheranno le bombe. Hmm, forse c'è un modo per decidere che... Vabbè, va a far culo. Professore, vede che ci sono due serie di cavi nel circuito? È impossibile da recidere. Non penso che riusciremo a tagliare tutti i cavi prima che il dispositivo reagisca. Impressionante, Celeste. È chiaro che di meccanica te ne intendi più di me. La sorella ne sarebbe assai orgogliosa. Ah, è solo un'idea che ho avuto. E se usassimo questo? Un orologio. Porche? È l'orologio da taschino di Claire. Quello che le avevo regalato anni fa. E io che pensavo che fosse andato perduto nell'esplosione. No, in realtà l'ho trovato mentre facevo ordine tra le cose di Claire dopo l'incidente. Sfortunatamente sembra essere guasto. Posso caricarlo per ore ma non funziona mai per più di dieci minuti. Ho capito dove vuoi arrivare, Celeste. Stai suggerendo di sostituire il battito del cuore di Bill con il ticchettino dell'orologio, giusto? Esatto. È rischioso ma potrebbe essere la nostra unica possibilità. Dovremmo scollegare il circuito dal primo ministro e collegare l'orologio contemporaneamente. Ma anche se ce la facessimo, l'orologio si fermerà dopo dieci minuti e la fortezza esploterebbe comunque. Finiremmo per mettere in grave pericolo gli abitanti di Londra. Luke, se non agiamo subito, Londra si troverà davanti a un pericolo ben più grande di qualsiasi esplosione. È l'unico modo per fermare Clive. Le probabilità di successo sono poche ma dobbiamo provare. Due lunghi cavi collegano il dispositivo al cuore del primo ministro. Riesce a scambiare in una sola mossa i cavi in modo tale da collegare l'orologio da taschino nel dispositivo? Scambia solo due blocchi per collegare il dispositivo nella parte alta del touchscreen all'orologio da taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Magico allora. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. Scambia solo due blocchi per la taschino in basso. so I due blocchi si trovano entrambi nella terza riga, grazie aiuto speciale, non ci sarei mai arrivato. Grazie a tutti. Ahà! Vediamo se ho ragione. Bene, risolto. Sì, grazie aiuto. Fantastico, professore. Ora l'orologio è collegato. Sì, ma il nostro lavoro qui non è ancora finito. Eccoci qua. Pronti a viverci l'epilogo tutti insieme. Epilogo, il futuro perduto. Abbiamo dieci minuti per tagliare la corda prima che la fortezza esploda. E adesso? A me lo chiedi. Dobbiamo invertire il flusso di energia, così il generatore si disattiverà, fermando la fortezza. Ma come facciamo? Ho un'idea. Guardate qui. Altro puzzle, Pipo Pog. Cazzo, non ce la faccio più. Dobbiamo invertire la direzione dell'energia per mandare tutto in sovraccarico. Non ho idea di come funzioni. Mi sto perdendo. Ah, sì, continua. Ce lo dici tu, Celeste. Eccolo qui. L'ultimo enigma. Quello qui sotto è un meccanismo. No shit, Sherlock. Grazie. Questa roccia è una roccia. La rotella A gira nella direzione indicata dalla freccia rossa. Quale freccia rossa? Ah, ok, pardon. Determinando la rotazione di B, anch'essa nel senso indicato dalla freccia rossa. Con lo stilo puoi spostare o ruotare l'insieme di rotelle A minuscola che collega e B, così come gli insiemi B e C. Inserisci questo insieme per modificare il meccanismo. Ok, va bene. Ok. 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 Allora, questa gira in qua. Quindi girando in qua, questa gira in su. Girando in su, questa gira in così. Girando così, questa gira cosà. Non sto impazzendo per niente. Ok. Grazie a tutti. Ah, non sono costritto a usarli tutti e tre. Ok, buono. Grazie, come l'avete detto, se no sarei rimasto qua a cercare di incastrarli tutti. Allora, proviamo. Allora, tu vai così. Per questo motivo, se tu giri in qua, tu giri così. Se tu giri così, tu giri cosa? Girando così, questo gira in qua, questo che gira in qua, tu giri in così. E' però se alternano, no? Antiorario, orario, antiorario, orario. Quindi, questo qua è orario, anti-orario, orario, anti-orario, orario, anti-orario, anti-orario, orario, anti-orario. Teoricamente. Credo di essere sulla buona strada. Ok, per fortuna ci sono arrivato senza dover fare tutte le freccine. Che suolo strano, che cazzo sta succedendo, fra? Io me la darei a gambe, poi vedete voi. Invertendo il flusso di energia, abbiamo attivato un meccanismo di autodistruzione. Ottimo! Oh no! Dobbiamo andarcene subito da qui. Fuori, 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 al macchinario di Don Pablo, al macchinario di Don Pablo! E ovviamente il trasporto ha tutto il guasto, ma porca minchia. Dovremmo usare l'auto per fuggire, forza, da questa parte. Certo, geniale! E come cazzo scappiamo con l'auto? Vola anche la macchina? Live, mi dispiace, sei stato... Battuto! No, 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 non può essere. Non può finire così. Non finirà così! Ah, scusate, non dovrei ridere. Forse è godicchio anche perché assomiglia a Luke, quindi, cioè, è copiamente godurioso il tutto. Live! Ma chi se ne frega, scappa! Cosa? Scappiamo con l'automobile? Se è uno scherzo non lo trovo affatto divertente! Cercherò di guidare con prudenza, signor primo ministro, se no rimanga qui, eh, cazzi suoi. Cosa stiamo aspettando? Dai, dobbiamo andare, figa! Ma è una follia! Ma il pappagallo dov'è? Perché teoricamente era con lui, ma non lo vedo nella macchina. Io all'esame di guida e se le piace? Eeeh, certo! Ovvio! Tutto nella norma! Tutto perfettamente sensato e logico! Idealistico! Professore, attento! Non rispondere con accidenti quando potresti schiattare! Dai, per favore! E mo' che si fa? La strada è bloccata! Niente panico, Luca! Io ti metto a trovare un modo per passarci sopra! Ah, con un enigma! Così! Blocco di blocchi, bel nome! It's a block block! Oh no! Oh no! Oh! Oh! Ho cinque bombe a disposizione! Ah, ok! Ah, è un test! Fatemi partire da basso! Ok! Quindi, tu sei giusta! Hm! Quasi! Ah, è un test! Anche, qui? Ah! Ma, le motivation! Ah! 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 va bene Ah, spogliato. Grazie a tutti Vabbè fra salti lì Ah boh Posso far saltare la macchina? Non posso No 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 Non sto capendo No 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 Cazzo incredibile No 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 non muore però noi sappiamo volare alla faccia dell'optional grazie don pablo alla fine don pablo mvp è indiscusso indiscusso mvp di questa terza parte un ingegnere corretto terza parte della storia di lei che stava mai ma questo è un'automobile c'è rimasto nessuno allora no signore tutti gli abitanti della città sotterranea sono stati riportati in superficie si ravi tutti si dì una mossa l'aiuto no ti prego non dirmi che adesso fai l'eroe vai a salvare clive troppo pericoloso bravo clive non è l'unico colpevole come no lei lo sa non è vero professore vero l'altro colpevole dimitri ma questo non vuol dire che adesso si debba salvare clive e tu sei un coglione con le manie di protagonismo però e fatelo dire torniamo indietro non ti preoccupare quando sarete al sicuro tornerò a prenderla no no neanche gli abitanti della città lo sappiamo non sono stati poi rapiti e portati di sotto abbiamo evacuato la città sotterranea tutti gli abitanti sono salti molto bene devo ritornare a volare ciao ispettore alla prossima shagari la cosa da dove dalla cella di isolamento in cui verrà rinchiuso ma sei scema celeste ma lascialo schiattare e come ne possiamo parlare più tardi questo posto non resterà in piedi ancora per molto come puoi proprio tu venire in mio aiuto non posso certo lasciarti qui in realtà potresti ma non sai quello che ho fatto quello che ho tentato di fare sì ma non ti lascerei mai qui a morire io l'avrei fatto onesto in fondo questa tragedia è stata causata da errori che abbiamo commesso come scienziati capisco avremo tempo per parlarne più tardi ora dobbiamo andare però che figata la voragine attraverso cui si vede la londra sotterranea bellissima cioè diventerebbe un'attrazione turistica in mezzo secondo il mio dio che botta di culo le ce li cade dentro no vabbè clamorosamente sculati i londinesi in questo caso no vabbè clamorosamente sculati i londinesi in questo caso Andre Comunque si li ha salvati Purtroppo State tutti bene? Che qualcuno arresti Quell'uomo Che qualcuno arresti Anche il signor Guglielmo Sputagli in faccia A Herschel Cosa pensa di fare? Quest'uomo rappresenta una chiara minaccia Alla sicurezza nazionale Che ragione Non nego che Clive sia colpevole Di aver causato ingenti danni alla nostra città Ma non dimentichiamo Che è anche vittima di un sistema politico Che pone il progresso sopra ogni cosa True Assolutamente vero Ma ha creato un gigantesco pothole In mezzo a Londra Ha ucciso centinaia di migliaia di persone Leighton Non farlo passare per la povera vittima Hai un bel coraggio amico Professore io Clive Rispondi a una domanda Sapevi benissimo Che ti avrei ostacolato in ogni modo Perché mi hai fatto chiamare? Dimitri era convinto Che lei fosse necessario per il suo progetto Ma io sapevo Che era una minaccia Tuttavia ho finito per accompagnarla Passo per passo Fino alla mia base Non è così All'inizio stavo solo giocando con lei Ma poi mi sono reso conto Di apprezzare molto la sua compagnia Evviva l'amicinzia Forse l'ho chiamata Perché volevo che qualcuno Mi salvasse dalla pazzia Che mi stava consumando Come aveva già fatto lei Tanti anni fa Devo tornare indietro I miei genitori Sono ancora dentro Torna in te ragazzo Non c'è niente Che tu possa fare Mi hai tirato uno schiaffo Morirai anche tu Mi hai tirato uno schiaffo Nooo Eri Eri tu Dentro di me Speravo che sarebbe stato Nuovamente capace Di strapparmi Dalle braccia della follia È la seconda volta Che mi salva la vita Non posso che ringraziarla Eh Clive Allora Cattivo meno cattivo Dell'intera serie Permettimi di sentire Il cattivo meno cattivo È palesemente Don Pablo È in realtà È il peggiore forse Di quelli che abbiamo visto finora Non deve più preoccuparsi Per me Intendo espiare le mie cose Non vedo l'ora Di incontrarla di nuovo Nel frattempo Stia bene Anche tu Clay Mettilo al gabbio Sì signore I criminali come lui Mi fanno pensare Che il mondo Sia impazzito È spregevole Davvero spregevole Perché lei non lo è Signor Guglielmo Le persone possono essere così Accecate Dalle loro motivazioni Da non vedere i danni Che causano Ma è una cecità Che non colpisce Solo i criminati Che cosa sto insinuando Ispettore Niente signore Dico solo le cose Come stanno Ora mi perdoni Ma ho del lavoro Che mi attende E bravo c'è Elmi Non so che dire Se penso a tutta la sofferenza Che ho causato In nome delle mie ricerche È terribile Ma capisco che devi Avere amato Claire Profondamente Per fare ciò che hai fatto Comunque c'è L'unica persona sana di mente Qua dentro E c'è Elmi Fatemelo dire Più ci rifletto Più mi convinco Che sia stato L'orgoglio A spingermi Piuttosto che l'amore Eh già O Il rimorso Per dieci lunghi anni Ho inseguito Ciò che molti Credevano impossibile Ma ora Sono tornato in me Ma sai Hercel C'è un dettaglio Sul quale ti sei sbagliato A cosa ti riferisci? Il mio tempo qui È quasi finito È quasi finito Hercel Eh? Non so di cosa Tu stia parlando Oh La macchina del tempo Funziona davvero Pog Ti sei preso davvero cura Di quel cappello Che ti ho regalato No il plot Hercel Sono io Anime a terra Nel flashback Nel nostro presente Sì La macchina del tempo Funzionò Anche se solo Per un istante Prima di esplodere Scusami Scusami però Se lei Si era Eh? Non Non è possibile Sfortunatamente però Ci furono altre complicazioni Ha quindi La mandata avanti Poi la rispedita indietro Giusto per farla schiattare Bella merda Poco dopo essere apparso Nel presente Il corpo di Claire Diede segni Di instabilità molecolare Ossia Stava tentando Di tornare Al suo tempo È un fenomeno Attribuibile All'incompletezza Della macchina Non le restava Molto tempo Qui Ho lavorato Sulla macchina Sperando di riuscire A stabilizzare La sua esistenza Nel presente Per cercare Di mantenerla qui Allora così Ha senso Ma sembra inevitabile Che tornerà indietro Nel tempo Mamma mia Che cosa brutta Sapere che tornerà indietro Per morire di nuovo Ho pregato Dimitri Di fermarsi Ulteriori modifiche Allo spazio-tempo Portano solo Ad altre anomalie Se si cerca Di salvare i morti Dal loro destino Chissà quale caos Si potrebbe scatenare Sul mondo No però Questo è veramente triste Il flusso del tempo Deve restare lineare Cambiarne la rotta Porta ripercussioni Di cui siamo tutti Al corrente Purtroppo Dimitri non mi diede retta Così capì Che l'unico Che poteva fermarlo Eri tu Elshel Dieci anni fa Io Dimitri Bill Abbiamo infranto le leggi Della natura E ora Dobbiamo pagare È davvero Incomprensibile Tutto questo Deve finire Dimitri Sì Sembra proprio Di sì Le mie ricerche Sono state una minaccia Per la nostra esistenza E potrebbero esserlo Di nuovo A partire da oggi La macchina del tempo Sarà solo un ricordo Purtroppo è finita Herschel Adesso devo tornare al mio tempo Al giorno in cui ci siamo Separati No Claire Mi dispiace Ma non posso restare Sveltina nel ricolo Claire aspetta Avevamo tanti Progetti per il futuro Non lo dimenticherai Vero? Il nostro passato insieme E il nostro Futuro perduto She said the thing Non puoi andare Non voglio dirti di nuovo Addio Non posso farlo E non lo farò Io ti conosco E so che saprai essere forte Dopotutto Così fa un gentiluomo Ora Devo andare Herschel Grazie di tutto Se n'è andata Penso a dover soffrire di nuovo La morte Della stessa persona Che Avevi già compianto Dieci anni prima Ma ecco lo primo È il primo straccio Di emozioni Che mostra Canonicamente Hai i capelli E anche delle emozioni Il povero Eric Madonna A me non ero pronto Per questo pugno Nei feels Regà Cazzo Io adesso Vado a letto Piaggendo E abbracciando Fortissimo Claudia e Sid No a te Fatemi togliere la musica Che Purtroppo Viene sgamata Dal copyright Probabilmente Quindi Non so perché Ma le musiche finali di Layton Mi vengono sempre prese Infatti 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 Sto speedrunnando Col Cos'ho mutato Madonna Io Non me ne ricordavo Questa botta di vita Nel finale Ho assolutamente Bisogno di coccole Adesso Ok però Quanto durano Quindi Il bassotto Vestito come gli occhi Come lo son perso Ah quello L'avrei fatto A prescindere Ma adesso Lo faccio con Menti diverse E dopo la parte triste Di storia C'è quella felice Molto Credo sia ora Di dirsi addio Sì No ragazzo mio Questo non è un addio È un arrivederci Oh Forza Luke Un gentiluomo Si contiene sempre Specialmente Quando è in pubblico Mi scusi professore Ragazzi Chissà se lo rivedremo Chissà se lo rivedremo Nel nuovo mondo A vapore Mi viene da pensare Di sì Cazzo Vabbè dai Il fatto che Luke Si sia arrivato Dalle palle Un attimino Bilancia La tristezza Di quello che è accaduto Poco prima Caro professor Leighton È passato diverso tempo Da quando le nostre strade Si sono divise Come sta? Io mi sono ambientato bene E mi sto facendo Dei nuovi amici Le scrivo A causa di un evento Estremamente sconcertante Che si è verificato Di recente Sembra il tipo di mistero Che si addice Al professor Leighton E al suo apprendista Non conosco nessun altro In grado di risolvere Questo caso Tutte le informazioni Necessarie a riguardo Sono contenute In questa lettera L'ultimo enigma Ehi professore Tutte le informazioni Sulla nostra prossima avventura Sono contenute In questo documento sigillato A proposito Le piace il mio sigillo? È come quello che usa lei Ma questo Ma questo ha la forma Del mio cappello E la L È quella di Luke Anche il colore È lo stesso Ha visto? In realtà il sigillo Mi ha fatto venire in mente Un enigma Quale tra i quattro È il mio timbro Ma fra me Che cazzo Ne so C Credo di essere sulla buona strada Risolvere un enigma È una soddisfazione Si sbrighi professore Rompa il sigillo E legga il documento C Non vedo l'ora Di iniziare Questa nuova avventura Con lei Spero di ricevere Presto la sua risposta Il suo devoto Apprendista Luke Quindi davvero Loro hanno tiserato Un futuro gioco Con Luke Vent'anni fa Tipo Non venti Ma quindici anni fa E poi hanno pensato Di fare dei prequel Ma perché? Ci hanno tenuto Sull'espire Tutto sto tempo Perché? Per quale cagione? Alla faccia del cazzo Sì beh Continuerà Ma continuerà Nel 2025 Apparentemente Vabbè è finita così Raga La cosa che Trovo scioccante È il fatto che In realtà I I tre giochi Usciti dopo questo Non sono Sequel Sono prequel Quindi tutto ciò Che si vede In Gli altri tre Tipo Il canto Dello spettro Il richiamo Dello spettro Quello della maschera Dei miracoli E l'eredità Degli Aslan Sono tutti quanti I prequel Che precedono Gli eventi Del villaggio Dei misteri Camara Hai rotto il cazzo Però eh Ehi ti di giù I tre giochi dopo Sono prequel Sono eventi Che precedono Il villaggio Dei misteri Il paese Dei misteri Quindi La storia Loro Continuerà Sì Ma continuerà Soltanto Nel 2025 Con il nuovo Mondo a vapore What the fuck Perché aspettare 15 anni Magico Vabbè Signori Grazie per la compagnia Grazie per aver seguito Questa prima trilogia Del professor Layton Farò anche la seconda Non lo so Sinceramente Premesso che ho altre cose Di cui occuparmi In questo periodo Ci sono altri giochi A cui vorrei dare La precedenza Vedi Una nuova serie Minecraft Che però inizierà Tipo a giugno Varra luglio Vedi Deponia Vedi Detective Gallo Una volta che Avremo fatto Tutti questi Forse potremmo Portare la seconda Trilogia Credo Penso Chi lo sa Altrimenti ci vedremo Direttamente con Con il nuovo Mondo a vapore Splendori Fate i bravi Buona serata Ci vediamo lunedì Prossimo Con una nuova carriera Ah yes Grazie